Tra l'altro oggi è una bella giornata anche a livello trading quindi c'è da lavorare molto Allora, e ripeto Scriviamo le nome Ok, allora dicevo Dunque, il corso storicamente nasceva nel 2007, non mi ricordo L'avevo fatto per un paio d'anni, poi è iniziata la crisi e l'avevo sospeso perché secondo me non era il momento Dopodiché invece due anni fa, mi sembra, il 2000 e... Più di più di due forse O due o tre, insomma, quando è iniziato il rialzo Ho detto, vabbè, secondo me, ma non perché faccio previsioni ma perché era un buon momento per non che operiamo solo long, però sulla catastrofe 2008-2009 era meglio stare un po' fermi Invece da lì dico, secondo me è un buon momento ma non perché la crisi si sia risolta, cosa che lo vediamo non lo è affatto secondo me, ma perché era un buon momento perché tu in due o tre anni potevi fare un buon lavoro e infatti da lì poi è nato con persone che sono venute come voi questo gruppo di cui appunto ogni tanto parlo e che sono i ragazzi che poi postano l'analisi la mattina il quadro, eccetera, eccetera e che noi via chat tutti i giorni lavoriamo e questa ve la faccio vedere così capite bene cosa significa non solo, ma questo è anche il nostro piano di lavoro quotidiano questo qua non è il computer qui in locale ma è il mio computer a casa che tengo attaccato, fisso, perennemente alla corrente, a fast food e tutto e tutti quanti ci colleghiamo qua quindi vediamo le stesse cose la piattaforma esecutiva è questa dove abbiamo la Darwin ebook Darwin è quella di diretta comunque ebook per comprare e vendere e qui ci parliamo e lavoriamo insieme vedete praticamente a orari tipo iniziamo intorno alle 6 ogni giorno circa 6, 5, 6 dipende proprio per fare il piano della giornata questo lo vedete perché è proprio lavoro quotidiano poi se vai indietro c'è proprio mesi e mesi di lavoro di questo tipo e poi niente si fa il quadro macro che è quello che leggete anche voi cioè quello con tutti i trend loro lo scrivono io glielo correggo perché siamo in 4 e 3 sono ragazzi come voi nel senso gente che aveva fatto il corso e che domani avevo invitato solo che anche loro ho detto non state a venire ragazzi io non sto in piedi però sono collegati anzi glielo dico perché gli ho detto ascoltatemi da lì così non sto a scrivere allora loro cosa fanno? scrivono il quadro macro il piano per la giornata io poi glielo correggo se c'è da correggere poi pubblichiamo solo il quadro macro sulla pagina Facebook e quello che leggete anche voi con tutti i trend il coso dopo oggi cerchiamo di capire anche come usarlo e quello lì va usato insieme alla videoanalisi settimanale con la videoanalisi tu hai il quadro della settimana la tematica sabato detto due massimi massimo minimo o qua o qua aspettiamo e vediamo che cazzo succede poi tu giorno per giorno lo aggiorni leggendo il quadro macro quindi sarebbe un po' da usare insieme e poi invece c'è il piano di trading che è quello proprio operativo nel senso che noi prima dell'apertura come è giusto fare diciamo se arriva lì compriamo vendiamo entriamo con mezza posizione posizione intera eccetera eccetera poi se si entra si fa gestione della posizione io cerco di renderli più autonomi possibile quindi siamo ancora in una fase benché sia un anno che lavoriamo insieme una fase molto embrionale ancora perché si fa tanta fatica molti sai all'inizio dicono sì mi sacrifico poi dopo un po' che ti svegli tutti i giorni alle 6 alcuni sbarellano perché è pesante ti assicuro ci va proprio fuori di testa dopo un po' e non puoi fare altrimenti secondo me nel senso non puoi al mercato apri il computer alle 8 hai già perso proprio sereno perché non sai cosa è successo stanotte io se guardate ieri ho scritto ieri di domenica perché prima di andare a letto c'è l'affertura di là dai un'occhiata questo crollo che c'è stato è dovuto al USD Japanese che infatti ieri sera ho detto ragazzi attenti che è successa sta roba aspetta e vabbè non lo trovo quindi il lavoro inizia addirittura da sera prima se c'è qualche notizia qualcosa come è stato ieri dico come è stato ieri perché se tu guardi oggi c'è stata questi sono i grafici giornalieri adesso poi parlo anche a chi è meno esperto scusatemi anzi se però vedete gli Stati Uniti sono partiti molto a ribaffo no? noi invece stranamente poi ne parliamo siamo partiti con un'apertura in gap down che però ha già recuperato tanto siamo quasi sui minimi di ieri e per chi mi conosce cosa stiamo facendo stiamo aspettando se li rompe entro un'ora decente entriamo long a conferma dell'inversione del momentum no? perché abbiamo aperto sotto i minimi di ieri se tu guardi anche da qua sotto hanno solo recuperato se recuperasse i minimi di venerdì c'è un'inversione del momentum quindi i ragazzi adesso non stanno facendo altro che non siamo in posizione perché ecco questa è la piattaforma reale qua ti scrive se siamo in posizione o non siamo in posizione oggi siccome gli manovro anche io un po' la piattaforma gli ho detto di operare con uno o due al massimo perché se no gli faccio casino perché io da qui mi tocco comunque la piattaforma anzi lì al viso io non grazie ok dicevo quindi vedete che ad esempio il tema di oggi io ragiono molto per temi del mercato è proprio quello che c'è stata questa forte negatività statunitense mentre l'Europa sembra aver iniziato dopo l'apertura molto bassa questa spinta iniziale a ribasso aver iniziato un recupero quindi si sta solo aspettando di vedere come si risolve la divergenza cioè chi ha ragione dei due o l'Europa che recupera o gli Stati Uniti che che sono fortemente negative che vedete che proprio questo è l'S&P questo è il Nasdaq non hanno accennato guarda la candelina per chi le conosce in Europa è già un po' di recupero quindi si sta semplicemente aspettando di fare due cose o in questa zona di minimi massimi scusatemi di minimi di venerdì si rivende se non li buca rimane momentum down quindi vendi e il pomeriggio se l'America prosegue a ribasso l'Europa a un certo punto dovrebbe cedere se invece ripenetrasse sia sullo Stox che sul DAX allora magari compriamo tra parentesi e ovviamente preciso il solito disclaimer perché è giusto tenere presente il discorso disclaimer quindi sono tutti esempi non operativi sono tutte robe didattiche e quant'altro questo lo preciso per le persone a casa eccetera quindi non sono assolutamente inviti a operare anzi l'operazione probabilmente la vedrete quando già è successa però anche perché YouTube lo dico a chi segue da casa ha un ritardo nello streaming di 1-2 minuti quindi la cosa che dico adesso loro la sentono fra 2 minuti quindi è già endemico il discorso del ritardo quindi seguite a livello didattico ma assolutamente non operate sono solo esempi in alcun modo in questo senso quindi adesso poi vado con ordine quindi se qualcuno è molto alle prime armi non si spaventi adesso cerchiamo di fare un discorso un pochino più ampio anzi prendiamo le slide e ripeto invece per chi mi conosce un pochino di più in questo momento siamo un po' in una situazione di stallo perché se rientra nei minimi di ieri DAX Stox confermato c'è un'inversione del momento se rimane sotto il momento rimane verso il basso cioè al momento c'è una divergenza fra un'Europa che recupera gli Stati Uniti che sono fortemente negativi da ieri sera il future del CME sul CME su Nasdaq S&P 500 vanno avanti 24 ore quindi hanno aperto ieri con l'Australia e quindi siamo davanti a questa divergenza e vediamo come si risolve anche entro una certa ora perché chiaramente dopo le 11 11 e mezza diciamo che si entra in pausa a pranzo quindi eventualmente ne riparliamo alle due ripeto da un punto di vista operativo ok quindi prendiamo anche le slide così partiamo da zero e nel frattempo allora vediamo se ce le ho qua credo sì no documenti no non ce l'ho messa le slide documenti tu le hai Matteo scusa per caso a corso non a quello qualcuno no no non importa ma email corso metto vabbè le troveremo e chiedo e chiedo a loro ok pensavo di averle non si dimenticate allora quindi dicevo fermo le stando che sono solo esempi didattici eccetera eccetera mi raccomando il corso rispetto alle slide che vedrete quindi il corso originale è molto cambiato ed è per questo che ho poi deciso di fare questa giornata proprio perché c'è una grossa evoluzione basata su quest'anno di lavoro comune con quattro persone come voi poi uno si è tolto perché bisogna avere anche la consapevolezza e lo dico a tutti voi che magari dopo anni di lavoro uno capisce di non essere portato lì spesso ci si scontra molto perché sai per me che sono un formatore dirti guarda sono tre anni che mi segui hai fatto tutti i corsi però non sei capace quindi ti consiglio di tornare a lavorare non che nessuno di loro ha lasciato il lavoro per il trading grazie a Dio è però di rispostare a livello reddituale l'attenzione lì poi la persona ovviamente si risente molto perché dici ah sì che capito no? eh però io che devo fare ti dico vai avanti che ti rovieni no devi tornare a lavorare questo sappiatelo anche voi comunque vada magari a un certo punto sarà mio dovere di dire secondo me tornate a lavorare che è meglio poi ci sono decine io quando vedo anche le cose dei corsi ma non critico dice hai problemi nel trading perdi sempre vieni da me che risolviamo tutto no vai a lavorare perché tanto già si vede che non sei capace dice il 90% perde ma secondo me è di più il 99% io vedo che la fatica che si fa la costanza richiesta lo vedo anche con i ragazzi queste non ce le hanno bene c'è sempre un po' di c'hanno manco le slide ecco c'è sempre un po' di armata brancaleone anche dopo quinquenni insieme no? manco le slide del corso uno dovrebbe tenerle su comodino e rileggere ogni sera tu neanche le hai ecco c'ha questa cosa dice vabbè tornate a lavorare facciamo così perché fidati sembra una scemenza ma una cosa così ti fa capire che tu non sei portato e devi tornare a lavorare perché hai fatto un corso segui un metodo hai le slide originali che dicono che cosa c'è se non le hai è un po' cacciarone no? siccome qui lavoriamo contro gli istituzionali ma quelli veri lascia perdere qui bisogna essere più perfetti delle persone perfette bisogna essere veramente ineccepibili perché tu sei qua col mausino ci sono problemi di ritardi di linea immensi per noi trader retail privati rispetto a loro con l'ifrequency ma non è la colpa delle macchinette che tu vedi un film che nella migliore delle ipotesi è accaduto un secondo fa il famoso tempo reale che non è reale lo vediamo sempre se va bene un secondo dopo ok quindi figurati è già successo tutto certo non facciamo scalping grazie a Dio le posizioni da 20 minuti un'ora due ore il problema del millisecondo non c'è infatti dico sempre grazie a Dio il mio metodo per culo scusate il termine si è salvato anche dall'ifrequency ma è stato un caso non è che l'avevo pensato io nel 2005 ho avuto solo fortuna come ho avuto fortuna a occuparmi di future me le metti se ti avrete ce l'hai no bravo me le metti se no mandamme le mi metti no mi hanno trovato allora avvisavo i ragazzi a casa quindi adesso a parte gli scherzi però ragazzi veramente chiunque di voi ragazzi e ragazze partite capendo questa cosa partite poi c'è gente che fa trading da vent'anni magari a un certo punto anche avere la forza di dire non sono capace eh e se l'allenatore te lo dice adesso lui lavora con gli sportivi infatti mi ero appellato a lui poi non mi ha aiutato ero disperato è stato molto fair perché conoscevo la persona come faccio dimmi un po' come fate voi in squadra quando devi dire a uno di rimanere in panchina perché di fatto è questo ho detto no no non posso aiutarti è stato molto gentile perché è anche un amico quindi però di fatto succede negli sport no? cioè a un certo punto dice te non sei capace sta in panchina e e la persona si risente immediatamente allora quello che vi dico già oggi è ma questo fatelo con voi stessi a prescindere da me datevi dei tempi io dico sempre i 3-5 anni partendo da zero o ripartendo da zero se uno dice ok voglio riprovarci seriamente e magari fai un check ogni tanto di dire ma siamo sicuri? sono capace o meglio perché è inutile il sogno e può accadere che se invece mi seguirete o comunque ci sentiremo per tanto tempo magari fra 3-4-5 anni vi dico ragazzi per favore lasciate perdere perché secondo me Stefano tu non sei portato sei bravo hai studiato tutto e ti manca perché poi alla fine ti manca ad esempio è successo in un caso che mancava quel poco in più il fuoriclasse se uno tecnicamente dico lui perché lavorando con gli sportivi lo sa è perfetto però non vince le gare perché perché gli manca che ne so l'uscita dal cancelletto gli manca qualcosa può succedere allora è chiaro che tu in 5 anni impari la tecnica però se ti manca quel pezzo lo scopri alla fine è un negativo lo scopri all'inizio e purtroppo è molto così allora io dico sempre io preferisco esservi antipatico sia adesso nel momento in cui vi dico guardate che forse non riuscirete perché le statistiche parlano chiaro oppure i più bravi se lo sentiranno dire fra 5 anni magari non esci a mani vuote perché ad esempio nei due casi ci sono stati questi ragazzi che hanno comunque ritrovato un lavoro part time che secondo me è corretto part time ti dà un mezzo stipendio abbondante quindi non è proprio la metà e riescono a conciliare un pochino i trading quindi l'esperienza è rimasta in questi casi in realtà è più un dilattare il tempo d'apprendimento dicendo bene io torno a lavorare mezza giornata mezza giornata e poi mi aspetta che l'ho trovato ok ok grazie adesso forse l'avevo trovate perfetto materiale ok allora dicevo quindi vabbè questo è un po' il discorso di base cercate di averlo chiaro e e riflettete appunto anche sul discorso del dire solo il fatto che vediamo tutto un secondo topo di media cioè l'idea è far riflettere ma perché materialmente il dato non riesce ad arrivare da Francoforte dove c'è l'Eurex o da Chicago dove c'è il CME a qua in meno di un secondo anzi già un secondo è tanto proprio non riesce a fare la strada anche con la fibra 8 quindi chi è lì vede il film prima quindi anche il tape reading che magari vedremo sì lo fai ma devi sapere che sei in ritardo no? perché vedi un film che è già successo è un po' diverso va bene allora vediamo un po' se riusciamo a vedere queste slide così ve le faccio vedere vediamo se ci sono le tue no 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 perfetto allora quello che noto però e la buona notizia è che ho compreso come nell'ambito del gruppo gruppo che uno può fare anche i due amici cioè non dovete per forza confluire nei miei simili avendo un atteggiamento che è quello che poi abbiamo impostato tipo fondo dandoci delle regole di risk management vere non puoi perdere più di per farla facile total giorno poi è fatto in tic per carità poi però il risk management è rispetto al capitale quanto puoi perdere al giorno a settimana al mese all'anno no? e nell'ambito del gruppo notiamo da circa un anno che non sono mai successi problemi del tipo che rimani dentro sai quando dici e perdi tutto cioè quell'indisciplina del singolo è l'unico problema che non abbiamo mai avuto paradossalmente come gruppo perché? perché devi rispondere a un'entità superiore anche solo teorica ma non sei solo tu quindi anche se uno impazzisse ma lo fai un giorno solo non di più quindi c'è molto controllo ma ripeto non c'è mai stato quel problema cioè gli stop vengono eseguiti senza neanche pensarci anche dalle persone più nuove nel senso quelle perché ci sono vari gradi di preparazione ragazzi quindi ok ah no ma questa era quella no non è quella giusta vabbè no non è l'altra no le slide quelle quindi questo è una cosa che il gruppo aiuta molto quindi se riuscite ecco il gruppo non è mai però io sono sempre stato molto contrario a forum e compagnia dove si tende un po' al marcomune mezzo gaudio no ho perso anch'io eh che bello no che bello niente cioè sul forum o sul gruppo facebook si tende un po' alla cacciara nel senso marcomune mezzo gaudio che è sbagliato perché lì con solida comportamenti legati alla perdita perché ah c'è stato male anche te che bello siamo tutti insieme no è più un cameratismo non è un gruppo invece noi notiamo che le regole le seguiamo ecco questo è un problema che non abbiamo mai avuto quindi questo è sicuramente un plus ed è una cosa che io vi consiglio di esplorare in qualche modo poi se gli dici ma io sono da solo no adesso magari già voi che siete qua potete se volete mettervi in contatto e trovare due o tre persone ripeto poi noi siamo proprio distribuiti sul territorio uno sta a Genova l'altro a Parma l'altro a Ancona io a Milano non siamo nella stessa città vero è che una volta al mese 15 giorni ci troviamo fisicamente un po' il discorso del corso reale e se no far tutto virtuale diventa quindi ogni tanto serve la giornata insieme anche per fare un po' di quello che si chiamerebbe team building quindi un consiglio che vi do è quello di se volete dico magari ai ragazzi più giovani se trovate una sponda può essere una buona idea di trovarci in un paio di persone perché da solo noto che si innescano meccanismi difficilmente controllabili quindi questo è sicuramente un consiglio che porto eccola qua grazie mi abbiamo trovato ecco vi faccio anche un po' di teoria quindi riflettete su questa cosa che è sicuramente importante ecco il famoso discorso ok rotate right perfetto allora l'altra cosa poi dopo iniziamo con la teoria non vi preoccupate è quella che se volete seguire questo metodo io farei in questo modo voi prendete la video analisi settimanale che dice i temi del mercato magari sono molto ripetitivo però dice vabbè me la risento che non ho capito magari iniziando da metà quello che è ad esempio questa settimana eventualmente guardatela sul mercato europeo dicevo poi vediamo perché il trend in Europa è ancora a ribasso e negli Stati Uniti a rialzo anche se è salito tanto questo è il massimo questo è il minimo finché è qua dentro aspettiamo questo è il tema da seguire giorno dopo giorno quindi stasera dice ancora dentro sì benissimo il tema è intatto tema del mercato su base stimale e poi in intraday appunto con il quadro macro che pubblichiamo sulla pagina Facebook avete sostanzialmente un aggiornamento del tema può sembrare un pochino complesso ma non lo è adesso proviamo a vedere quello di oggi come vedete dicevo viene postato dai ragazzi in chat vedete è lo stesso che vedete voi io gli do un'occhiata se è corretto o no e poi lo posto su Facebook per voi quindi è proprio quello che usiamo noi quello che non posto è il piano di lavoro operativo cioè dire se arriva qua compriamo se no allora io quello che vi consiglierei di fare chi veramente volesse provarci seriamente è provare a scrivere da solo non domani ma magari fra un anno questo report e poi confrontarlo con quello che pubblico io ecco già questa cosa anche fatta alle undici e mezza se uno lavora non guardi il mercato trovi mezz'ora nella giornata parlo a chi lavora ed è un lavoro eccellente perché tu guardi alle chiusure di ieri sera com'è andata ti scrivi il quadro macro lo vai a parametrare sulla videoanalisi settimanale nel senso sulle tematiche settimanali poi guardi il nostro non che noi siamo la verità però ne sappiamo un pochino di più e vedi se hai sbagliato o no già questo è un esercizio enorme e secondo me già per arrivare a capire un annetto parte se non due poi vediamo che cos'è facciamo anche un po' di teoria non vi spaventate però ripeto una strada che farei è questa quindi non c'è bisogno né di aprire il conto né la piattaforma né niente uno prende i grafici fermi alla sera prima si fa il suo cosino quando ha tempo lo confronta col mio segue il tema settimanale quindi basta sulla barra daily giorno per giorno vedere cosa è successo e ti abiti a ragionare per temi ok questo è un consiglio che do se poi lo riuscite a fare in due ripeto parlo ai ragazzi più giovani o a chi vuole è ancora meglio perché ognuno possa al suo dice ah no ho sbagliato qua ho sbagliato di là ma l'aveva scritto così insomma è un bel lavoro il problema di farlo a livello operativo è che questo va fatto prima dell'apertura quindi per pubblicarlo alle 7 e alle 8 bisogna svegliarsi un pochino presto e non si può fare la sera prima perché come ieri sera c'è stata quella cosa sugli US dollar Japanese yen se tu l'avevi fatto venerdì alla chiusura lo dovevi buttare via in Europa siamo posizionati bene adesso per com'è il mercato cioè una volta ancora quando ho iniziato io era un po' perché domenica l'America quindi un po' dovevamo aspettare sempre il pomeriggio invece adesso l'Europa è un po' il fulcro di tutto anche per la crisi che qui c'è ancora tanto negli Stati Uniti no vicinanza con l'Asia quindi come orari si ammessi bene sì ok ti devi svegliare alle 6 ma non è come uno che abita nel Pacifico è un'Australia che dovrebbe fare orari veramente un po' inumani quindi qua anche da quel lato siamo abbastanza fortunati quindi come vedete siamo un po' sfortuni e fortuna no vediamo le robe un secondo dopo però a livello di fuso orario si è ammessi bene quindi uno deve un po' mediare fra tutte queste cose a mio avviso e secondo me questo è un lavoro da fare molto importante allora quello che viene e poi parliamo della teoria finalmente ripeto a tutti di nuovo anche chi è arrivato dopo in buona sostanza appunto l'ho scritto stamattina ho un pochino di influenza anche se non si vede ma ce l'ho purtroppo quindi oggi andiamo avanti finché riesco magari facciamo mezz'oretta in più di pausa eccetera vi chiedo scusa e pomeriggio riprendiamo domani invece proprio non me la sento di fare un corso a pagamento perché non darei quello che ricevete ripeto tengo solo Matteo perché viene da lontano e poi fino a marzo non può più perché lavora l'inverno e quindi non so se vi va bene nel senso non c'è qualcuno che aveva prenotato aerei alberghi no perfetto meno male poi se volete il corso lo ripeterò a dicembre a gennaio e chi vuole può venire a fare una giornata due giornate quello che è poi comunque vediamo però ripeto non me la sento proprio di fare domani l'altra giornata di corso tant'è che c'era anche una persona che i ragazzi gli avevo detto di venire perché volevo presentarveli ciao prego si si figurati si ecco loro vedo che non sono entrati dai massimi praticamente cosa è successo parlo a chi mi conosce ho visto che hanno perso l'entrata praticamente vedete è successo molto preciso che questo è l'intraday dell'euro stocks aperto ha fatto una spinta in basso poi ha testato i minimi di ieri lì secondo me sarebbe stato da entrare come dicevamo c'erano un po' le due alternative o rientrano tutti e due e si inverte il momentum oppure lì si vende e si va come minimo a ritestare i minimi precedenti quindi probabilmente era da entrare qua nel mondo ideale nel momento questo è l'euro stocks ripeto parlo a chi ne sa un pochino di più anche il DAX non è rientrato il minimo di ieri e la riga rossa buongiorno prego prego minimo di ieri e la riga rossa lo stocks ha fatto appena appena divergenza il DAX è rimasto sotto probabilmente nel momento in cui anche il DAX scendeva conveniva dargli un contratto o due e andare come target in questi casi il primo target è sempre il ritest del minimo precedente cosa che più o meno ha fatto comunque fa niente Andrea dice non ho percepito le vendite va bene però adesso tanto oggi me l'avevano detto che erano un po' emozionati perché ho detto faccio vedere quello che scrivete quindi mi ha detto avevano paura di sbagliare non mi preoccupano tanto sbagliano tutti comunque a livello teorico il discorso era questo ripeto quella che vedete non è la piattaforma qua in locale ma è il mio computer a casa fisso collegato perennemente 24 ore dove tutti noi del gruppo ci colleghiamo vediamo la stessa cosa e la piattaforma operativa è la stessa ovviamente per tutti e poi via chat ci parliamo e e va bene comunque la tematica rimane perché ormai vedete che visto che abbiamo perso l'ingresso giusto per chi mi conosce a questo punto cosa ha fatto non ha raggiunto almeno sembra il target cioè il ritest dei minimi precedenti perché la tematica era da qui perché il tema del mercato lo puoi fare anche in piccolo dovrebbe ritestare il minimo precedente questa non è una previsione è il comportamento naturale del mercato ha testato i minimi di ieri scende dove va e dove andrà andrà qui se non ci arriva il mercato ci sta dicendo qualcosa quindi aggiorniamo la tematica di mercato ha interrotto lo swing verso il basso senza arrivare a target il minimo precedente di giornata adesso sta risalendo qual è il tema del mercato vedere se torna sui minimi di venerdì magari stavolta li penetra e magari stavolta entriamo long sempre se lo fa dopo ne parliamo degli orari in un orario decente perché dopo le 11 e mezza a 11 si entra in pausa pranzo allora poi ne riparliamo alle 14 14 e 30 quando aprono i mercati americani quindi ripeto non si ha chiuso e poi è tornato sì invece l'altro ce l'ho ancora aperto il gap odierno però il discorso chiusura gap parlo a chi mi conosce si fa solo in giornate swing non in giornate come oggi momentum momentum è perché siamo fuori dal range di ieri quindi oggi non parliamo di chiusura gap ok ok si si allora io entravo quando vedendo che il tax non aveva ripenetrato i minimi questo qua è entrato ma poi riesce più o meno in questa zona qua con uno stop che sarebbe stato sopra in teoria i minimi di ieri ma più sicuramente sopra i massimi di oggi avevi 2-3 tic in più che eri proprio sicuro quindi ti dava un buon filtro il target primo era il riteste dei minimi precedenti poi vabbè ci sono delle considerazioni sul VWAP che vedo abbastanza piattino il VWAP sarebbe volume weighted average price per chi conosce il market profile sarebbe come il POC e in giornate momentum il VWAP deve scendere tanto qua è piatto quindi per ora non sta confermando la negatività quindi probabilmente avrei detto ma non è il senno di poi è perché arriviamo a VWAP e ringraziamo Gesù Cristo che ci sono arrivati e poi quindi probabilmente a VWAP saremmo usciti quindi avremmo fatto credo da qui a qui perché ripeto il VWAP non decresce e quindi non conferma la negatività se invece il VWAP fosse stato decrescente che è un elemento che usiamo molto allora il VWAP decrescente ti conferma un momentum verso il basso allora lì era più probabile arrivare a ritestare i minimi precedenti come quindi probabilmente avrei filtrato in questo modo in realtà noi usiamo sempre più contratti e se riusciamo ne parleremo quindi probabilmente il target era con i due contratti o i dieci quindi 5 e 5 parliamo sempre di mezza posizione posizione intera usciamo con metà VWAP ma solo perché è piatto se prosegue con l'altra metà usciamo sul minimo precedente così come l'entrata non la facciamo come ti ho descritto perché arriva questo è un po' il ragionamento da chi lavora con uno in realtà man mano che ti avvicini inizi a vendere per costruire la posizione immagina di doverne vendere 10 non è che tu sul picco boom 10 sì magari 10 riassorbe anche l'euro stocks però tendo sempre a far ragionare un po' da istituzionale se ne vendi 100 200 500 non ti riprende tutti lì allora man mano che sale e ti avvicini al tuo punto d'ingresso inizia a costruire la posizione e così man mano che arrivi a target inizia a smontarlo perché magari il minimo te lo testa ma fa proprio tic e tu non riesci a uscire con tutta la posizione questa è anche una cosa molto importante quindi probabilmente l'ideale sarebbe stato per chi mi riesce a seguire mi scuso con gli altri mezza posizione a vwap e mezza provare a uscire a ritesta i minimi precedenti magari stringendo un pochino il training stop training stop che usiamo solo perché è momentum vabbè comunque ripeto mi scuso con chi non ha presente ok allora vediamo i ragazzi cosa dicono ok ecco questi qua sono appunti vecchi sono proprio le slide del primissimo corso che continuo a tenere anche se poi non uso slide simili però di base rimane molto vero quello che c'è scritto sappiate attendere i giusti setup cioè tu devi avere un piano fatto prima e quel piano poi lo segui al limite lo aggiorni se cambiano le cose ma non puoi a mercati aperti pretendere di almeno secondo me mettere in piedi una posizione e decidere come devi sapere prima quindi io ieri sera avevamo visto il sogno stigia parisieno ho detto guardate domani probabilmente si vede già del ciccio susa apriamo al ribasso fate un piano che ti scaletta tutte le entrate al ribasso a seconda di quanto al ribasso apriremo perché tanto apriamo in gap down quindi non riesce ad entrare subito ma prendiamo altri minimi no? vi faccio vedere sul daily praticamente gli ho detto facciamo questa cosa prendiamo tutti questi minimi e ogni volta che ne buca uno mettiamo su un pezzo di posizione tanto apriamo in gap al ribasso non riesce ad entrare subito infatti è stato così il fatto che volesse recuperare è proprio perché non ha neanche scalfito il minimo di giovedì fosse stata vera negatività almeno lì ci arrivava forse lo penetrava invece ha aperto giù quello lì non l'ha neanche sfiorato e ha iniziato a recuperare questi sono daily e poi di qua ah scusatemi adesso poi hai ragione lo dico abbiamo sotto è SP500 orario Ntik sotto quell'orario uso l'Ntik nasa corario Ntik stessa cosa per l'euro stocks DAX poi qua c'è il BUN anche se ormai è decorrelato e il FIB lo teniamo qua ma solo per affezione ma non operiamo sul FIB ecco peraltro come dico sempre il quadro dei future di questi future cui magari aggiungerei l'euro dollaro io lo terrei presente qualsiasi sia il mercato sul quale operate perché anche se uno fa l'azionario piuttosto che se tu hai un quadro quadro macro fatto sui future poi vai a vedere la singola azione non dico che segue però ti sei fatto già un'idea molto buona di quello che potrebbe accadere anche perché il mercato italiano apre alle 9 e qui tu stai lavorando dalle 7 8 insomma arrivi pronto e non è come io dico sempre il trader online che si sveglia alle 9 va lì e senza preparazione fa molta fatica quindi secondo me il quadro di quello che accade in generale è qualcosa che terrei presente sempre ok vedo che tra l'altro abbiamo un problema di linea quando la piattaforma Darwin vi fa la riga gialla sopra così è la vostra linea internet che ha un problema in effetti non ho riflettuto ma aspettate voglio cambiare ah no sono connesso a questa andiamo su quest'altra mi cambio il wifi di casa ho due linee wifi una di backup e vediamo se va un po' meglio perché vedo che ecco adesso è andato vediamo se va via la linea gialla ok perfetto allora e dicevo non va via vabbè quindi mi raccomando non arrivate impreparati se una mattina dice faccio tardi piuttosto che o non operate oppure come dico sempre anche iniziando molto in ritardo voi semplicemente fate il piano allora che riuscite alle 9 come se non avessi visto come la partita senza aver visto il risultato e solo dopo apri il tempo reale perché se tu guardi già il tempo reale metti alle 9 e un quarto non puoi dopo fare il piano sei troppo influenzato no? da questa cosa tra l'altro vi ricordo che pro real time che io consiglio per l'end of day per il tempo reale consiglio visual time ma solo perché costa poco e funziona decentemente poi c'è il market profile gratuito quindi collaborando con loro me lo sono un po' costruito come volevo tra l'altro ci sono molte novità in arrivo nel senso che hanno fatto questa nuova versione con la cloud che verrà presentata al toll ve lo anticipo praticamente tu puoi salvare i tuoi studi sulla cloud e da qualsiasi device anche dall'iPhone Android ti ritrovi le linee tracciate piuttosto che e poi le puoi condividere quindi tipo se uno lavora in gruppo puoi dire condividi il mio studio con e lo vedi ed è una cosa che faremo anche noi cioè quello che vogliamo fare è questo che vedete piano di lavoro nostro con le righine tracciate niente di che ma utile magari a chi sta imparando praticamente lo potrete vedere aspetta cioè vedrete sul vostro visual trader tutte queste righine qua che carina come cosa così è questo con la scosa della cloud noi ogni volta che tracciamo una linea facciamo condividi con tutti pubblica e quindi le potete vedere anche lì non non abituatevi alla pappa pronta voi vi fate il vostro poi dice andiamo a vedere che ah questa qua non l'avevo vista che cos'è ecco è più da ragionare così però è una cosa carina e infatti dicevo avevo concordato con loro il mese di prova gratuita per voi che farei dopo che lo presentano però dopo il tol quindi vai poi ne parliamo ve la tenete buona e secondo me questa è una cosa carina quindi il ProRealTime ha solo vantaggio che per l'end of day a mercati chiusi è fatto molto bene e soprattutto se tu ti colleghi adesso hai i dati a venerdì sera cioè non ti fa vedere il tempo reale loro lo fanno per un motivo commerciale ma è molto comodo per noi che magari una mattina facciano tardi appunto ripeto tu ti guardi le robe a venerdì sera come la partita non sai il risultato il DAX è rientrato bene adesso l'Eurostox vediamo cosa fanno loro che lo dico io Stox rientrato e va bene allora dicevo adesso tu cosa devi fare in sostanza aspetti che anche il DAX rientri se vuoi essere proprio sicuro guardi che chiuda il gap di stamattina che è questa righina che facciamo noi tratteggiata in nero facciamo anche l'audio ma no perché sennò voglio fare sentire la piattaforma ma comunque questa qui è quella operativa quindi lasciamogli il timone così se operano lo vedete in tempo reale e ripeto per chi è arrivato un po' tardi questo è il computer di casa dove lavoriamo col mio gruppo di trading è come fosse un piccolo fondo in realtà 4 disperati come dico sempre però un pochino più strutturati e con un pochino più di esperienza e quindi invece che operare io come facevo ai vecchi corsi che ho parli ho appena rientrato aspetta compriamo e per fare un casino i ragazzi stanno operando se c'è qualche operazione la vediamo avete capito cosa stiamo facendo l'abbiamo descritto però la seguono loro e vediamo un po' mi sembra un'esperienza un pochino più reale di quello che da solo parla canta suona la tromba fa il salto invece così almeno descriviamo la teoria il metodo è quello e siamo a posto gli ho detto di operare con uno o due contratti al massimo perché ripeto comunque è meglio è sempre un po' didattica la cosa e in realtà ragioniamo sempre con posizioni divisibili per due quindi un contratto solo mai e questa è una cosa che consiglio anche a voi tutta il più usate il CFD non pensate però di guadagnare dal CFD è didattico uno dice stanzo come abbiamo fatto noi 100 euro di perdita e su un arco di boh me li faccio durare più che posso tipo tu quanto io ho riscoperto il CFD per costruire la posizione si quello è vitale almeno avete i due contratti no? perché sennò con uno solo ragioni proprio da trader online arriva lì compro una cartuccia sola scende invece è un pochino più da istituzionale man mano che arriva al livello di entrata inizio a venderne uno poi l'altro che non è mediare voi dovete ragionare come se dovesse entrare con 100 contratti 200 contratti quindi non puoi farlo tutto in un colpo su un punto che è il minimo di ieri la devi scalettare per forza per un problema di liquidità cioè io nel 2008 2009 ho lavorato per due anni con un fondo quello che si faceva metti che tu devi entrare short mettevi qua tutti gli ordini 10 10 10 10 10 10 fino al minimo di ieri se devo entrare short come volevo fare stamattina mi capite? perché non è che arrivi lì e fai broom hai capito? tu se lavori con un contratto solo fai il trader online come dico io che hai quella cartuccia e non va bene perché sbagli proprio è molto difficile prendere il punto preciso anche se hai un contratto solo e poi tendi a essere molto preciso che è sbagliato invece già con due dici bom sta salendo ne metto una qua l'altra se ci arriva ok sai che a volte non arriva e riscende però almeno uno ce l'ho dentro mi aiuta molto e dicevi tu dammi dei numeri di soldi se posso quanto hai perso o investito diciamo in investito io non ho messo 2000 euro però mi permetti di poter no ma messi lì ma tu in tre mesi quattro mesi che cifre hai non perdono un guadagno vedi perché però riesco a salvarmi con certi e soprattutto impari ecco invece l'altro fermo restando che poi a un certo punto questo ve lo dico dovete passare al future ma perché perché il book del future ha dei meccanismi molto diversi cioè se io voglio entrare long qua c'ho mille persone davanti non è che faccio click come su CFD e bam mi seguite cosa sto dicendo allora poi il book va lavorato anzi quando consiglio di simulare dico sempre fatelo ecco adesso seguiamo perché il DAX sta chiudendo il gap e parlo ai più esperti dicevo il book va lavorato quindi non è che tu se hai mille contratti in attesa col CFD click che te lo dà subito qua devi fare la coda magari perdi un tick perché vuoi saltare la coda cioè a un certo punto dovete smettere passare all'altro io dico fate sempre una simulazione realistica poi vi faccio vedere in che modo durante la pausa per proprio mentalmente di provare a fare la coda addirittura io a loro consiglio non so se tu Matteo l'hai fatto di usare il CFD facendo la coda qui fai a quantità zero parlo ai più esperti e clicchi dice qua se volessi comprare ce n'ho 700 davanti quando quei 700 li hai eseguiti mi avrebbe eseguito anche a me e in quel momento clicco il CFD quella è proprio realistica come operatività è chiaro che non è l'entrata migliore ma a livello didattico vale quindi quei 100 euro di media che o li perdi o li guadagni seguendo il metodo ripeto mi sembra per esempio anche con errori madornali navighi sempre perché tanto quando guadagni e perdi sei un euro due euro cinque euro mi seguite quello sto dicendo ma impari tantissimo allora il passo successivo è quello di fare una simulazione che io dico è realistica cioè una simulazione dove effettivamente cerchi di simulare quello che accade poi sul book dei future reali ok ma vediamo il DAX allora scusate vado a ingrandire un attimo se me lo fa fare non me lo fa fare non mi sta che stanno operando loro però sta chiudendo il gap tu lo vedi che livello è di chiusura gap 7,9,6 praticamente prima delle 8 Eurex si dà i dati in tempo reale ritardati di 20 minuti quindi dalle 8 in poi poi si aggiornano non lo vedi più però entro le 8 sul sito dell'Eurex vai a vedere l'ultimo prezzo battuto ieri sera alle 22 alla chiusura e sono questi qua che prendiamo noi quando schiamiamo dati Eurex quindi in realtà il DAX me lo chiude a 9,7,8,9 adesso ha fatto di massimo io non ci lengo 8,8,5 quindi di un solo tick non ha ancora chiuso il gap mi capite rispetto alla chiusura Eurex che è quella che conta aspettiamo se e come lo chiuderà questo è il tema del mercato che stiamo seguendo se da lì poi lo oltrepassa a dislancho magari entriamo anche perché vedete che l'Eurostox è un po' fermato come per aspettarlo io li tratto sempre un po' come persone perché dice vedi che il DAX è lì come faccio lo chiudo l'altro è fermo poi quando chiude o tornano giù tutte e due e quindi si riallinano al ribasso con gli Stati Uniti non dimentichiamo gli Stati Uniti sono ancora in forte negatività oppure proseguono quel discorso che stanno facendo da stamattina quel tema di recupero confermando rientro guardo l'ora 10,5 ok mi facesse questo mestiere a mezzogiorno sarebbe meglio attendere le due e vedere poi dopo che cosa succede perché c'è la pausa a pranzo poca liquidità e spesso ci sono dei falsi movimenti non sempre l'orario invece è buono quindi vediamo se e come chiuderà il gap ok ah no vedo che siamo dentro comunque questo cancelletto per chi conosce è il livello d'entrata quindi noi siamo dentro da 3,2,5,6 questo è il nostro contrattino non l'ho sentito perché ciao dobbiamo ottenere il volume abbassato long questo è il trade che facciamo leggiamolo insieme allora c'è l'orario il tipo di ambiente momentum long momentum up mezza posizione perché oggi gli ho detto di fare uno o due contratti ma uno può dire 5,10 100,200 mezza posizione è anche utile ragionare così così poi quando cresci io non faccio più i due contratti ne voglio fare quattro la mezza posizione sono due all'inizio e due dopo per esempio però ti emozioni di meno quando cresci di size un conto è dire entro con 100 un conto è dire entro con mezza anche psicologicamente aiuta molto è sempre mezza ok uno due è sempre mezza posizione allora dice entrato a 32,56 che è il pezzo dove abbiamo la barrettina qua stop sotto il VWAP allora il VWAP l'abbiamo citato prima è un pochino il POC in tempo reale sarebbe volume weighted average price cioè il prezzo però ponderato prezzo medio ponderato per il volume è molto usato dagli istituzionali e viene usato però come stop solo nelle giornate momentum non fate l'errore di usarlo quando è swing dicevo prima il VWAP nelle giornate momentum conferma cioè se sale deve salire anche lui se no preoccupati infatti quando tu mi hai chiesto prima hai visto ho detto ma vedo il VWAP piatto non mi piace quindi forse sarei uscito a VWAP perché non lo vedevo scendere vi ricordate non ho detto andiamo long occhi chiusi però lo short ho detto ma il VWAP è molto molto utile però nelle giornate momento state attenti perché l'errore che fate sempre è quello di usare il VWAP in giornata swing che proprio non è il caso quindi lo usi come riferimento importante solo solo giornate come oggi che sono le giornate direzionali un momento quindi lo stop è a VWAP perché l'ha messo a VWAP perché abbiamo il massimo di stamattina che è l'initial balance da market profile per chi mi conosce quello blu il massimo di venerdì e il VWAP che tra l'altro è crescente lo vedete che è crescente qui c'è una riproduzione però un VWAP crescente mi conferma a long è chiaro che lo stop da metodo teorico sarebbe sotto il minimo di venerdì ma abbiamo un pochino di filtri e il VWAP ci dà un po' di margine perché mettere un TX sotto è di nuovo il famoso stop da tradere online invece con il VWAP è un elemento che non solo è molto utile ma è anche quello che guardano gli istituzionali cioè quelli che stanno tradando con te quindi quando si penetra il VWAP sei sicuro che lo vedono tutti quelli che contano quando penetra la media a 22 giorni ribaltata lo vedono in 4 non sarà niente cioè devi guardare le cose che guardano qui purtroppo chi ha più soldi vince ed è molto così infatti un altro problema grosso di questo mestiere è che devi essere un po' capitalizzato quindi lui ha il suo lavoretto tra l'altro è un signor lavoro può permettersi dire benissimo prendo i 100-200 euro faccio trading in modo quando posso ma in modo molto scevro da non devo campare il solito discorso con quei soldi intanto imparo io dico sempre io magari oggi qua per la primissima volta diciamo persone nuove se te ti dicessi voi che siete piccoli tra 10 anni sei capace saresti contento poi da non so quanti anni hai dai 30 in poi sei capace a fare questa roba è una bella cosa non pretendiate ma anche uno che ha 40 anni perché dice voglio far domani no ma se tu impari io ti garantisco che questa è la pensione non ci riesce nessuno abbiamo detto prima il 99% perde quindi quasi tutti noi mi ci metto dentro se mi voltano da casa non riusciranno a fare sta roba partiamo da questo discorso ed è molto sicuro questo anche il loro risultato da qualcosa sì è una cultura finanziaria se non ti rovini specialmente infatti dico sempre prima impariamo a non perdere poi e quindi non abbiate l'obiettivo a breve siate un po' furbettini voglio dire tu non so lavori non lavori studi non mi interessa se fra dieci anni mi dice sono capace a fare sta roba ma venga che bello che te la tieni lì e fai da fisarmonica perché è anche anticiclica rispetto alla crisi economica perché quando ci sono tanti soldi in giro bolle speculative immobiliari e robe magari uno si trova un mestiere e per due o tre anni fa il pieno di là e magari qua è tutto fermo se tu pensi 2007-2008-2009 in Italia c'era ancora un po' di bolla perché non si erano accorti della crisi quindi chi era negli immobili qualcosa è riuscito ancora a piazzare poi si è fermato tutto metti che c'era il suo mestiere capito cosa voglio dire ma infatti il discorso professionale a mio avviso bisogna avere anche l'intelligenza di capire poi dipende dai mercati l'oro le valute per carità però un mercato non ti può dare sempre se tu guardi le serie storiche anni 70 80 90 2000 ci sono stati dei periodi in cui potevi fare molto bene ad esempio 2003-2006 poi non credo che dal 2007 in poi molti abbiano fatto bene hanno perso tutti anzi è stato confortante da un lato perché anche quelli che dovevano sapere sempre tutto hanno perso l'ira di Dio però tu devi avere la capacità di dire io so fare il mestiere adesso non è non è il momento e quindi ritiro in piedi altri redditi io dico sempre se a te che sei giovane vai fuori ti paga 50 euro al giorno per fare qualsiasi cosa prendili perché i 50 euro poi li metti qua dentro e ti crei il mestiere perché fidati ho quasi 50 anni dopo un po' i 50 euro non te li danno più allora lì se tu arrivi preparato capito no? cosa intendi finché nel mondo reale ti danno 3 lire per fare qualcosa prendile e ti porti avanti questo discorso secondo me questo è un discorso molto reale quindi voglio essere chiaro e ripetere io nasco dicendo non ce la fai lascio a perdere torno a lavorare a tutti perché è la cosa più onesta che io posso dire a chi googlando mi trova sono stato anche molto criticato per questo ma è così secondo me che non è il paragone sono proprio approcci molto diversi e ti dico la verità io conosco persone che hanno fatto e fanno molto bene a prescindere da me persone adulte trader che già c'erano magari prima di me eccetera eccetera magari hanno un po' patito dalla crisi in poi eccetera eccetera ma non puoi vendere questa cosa perché è molto irreale cioè è proprio una responsabilità capito e a parte che secondo me poi io faccio tanto il nobile ma secondo me vendere questa cosa porta sfiga e poi tu qua dentro fai malissimo te la dico com'è cioè se io capito illudessi la gente di una cosa che secondo me non è possibile poi anch'io non riuscirei cioè capito avrei un peso psicologico che non mi permetterebbe di fare trading come voglio fare invece mi capisci adesso il corso di domani quello che è io lo annullo che era quello a pagamento poi magari non veniva nessuno venivano tutti se era un paio voler venire solo domani eccetera eccetera però sono i 2-3 mila euro che mi entravano ma non grazie un po' mi spiace perché è sempre il discorso reddituale no? però dico vabbè ne faccio un altro a Natale fa niente ma grazie a Dio non ho bisogno e riesco a essere quindi dico no sto male non riesco a essere come vorrei essere vedete sono molto disordinato oggi mi scuso e quindi no non posso farlo no? però lo so e non voglio campare solo di questa cosa perché mi vedete fare i video live i cosi al toll all'ITF con la telecamera no? ma anche lì perché non avendo la maniera di protagonismo quando nacque questa roba dello streaming ho detto aspetta un attimo se io uso la telecamera lavoro tutti i giorni faccio un relatore mi chiamano una volta al mese giusto? a me di apparire non interessa faccio la televisione tanto non voglio fare quel mestiere lì infatti non faccio quasi mai il corso tipico no? però anche dopo c'è un video live alle 5 e io faccio delle liste alla remoto per dire ma non è per dire il bravo tra l'altro mi piace molto da lì è nato tutto un lavoro sui social che mi sta appassionando tanto ed è un'altra cosa che porto avanti in parallelo ed è pienamente compatibile avevo gli orari li decido io ecc e perché anche su me stesso faccio il discorso se andando nel mondo ancora mi danno 2 lire a fare qualcosa li prendo li metto qua però questa cosa io crediateci o no io la so fare e me la tengo lì poi ho creato il gruppo se riusciamo non riusciamo quello che sarà non importa però e con questo io non voglio illudere le persone ma perché è veramente faticoso svegliarti tutte le mattine alle 6 cioè sbarelli fidate anche nei rapporti interpersonali fai un po' fatica e veramente sacrifichi tante cose quindi non è poi così facile così bello come sembra però io so che è una cosa che so fare ed è una cosa che so fare che me la tengo per me a prescindere da tutto per quello che vi giuro le prime volte facevi video live sembrava perché fai questa cosa tu che sembra il tecnico no poi arrivo sempre con la maglietta sembro un disperato per cui però non avendo il problema di ruolo non per me sono due cose diverse ecco era un po' quello ed è per quello che sono molto come dici tu onesto in realtà forse più scaramantico che onesto prego sì pochissime no che le regole sono tutto sonnato molto semplici del metodo sì ad esempio guarda ti faccio un esempio pratico tu come chiunque se inizia adesso potrebbe è molto facile da imparare imparare solo la chiusura gap che non era da fare stamattina perché non era swing però chiusura gap vuol dire se apre con un piccolo gap ed è dentro il range di ieri cerco di chiudere il gap è una cosa che tu fai alle 8 di mattina quindi qualsiasi lavoro fai più o meno salvo fuso orari te lo organizzi per dire iniziamo alle 9 quindi la posizione la metti in piedi se si può fare quindi stamattina tu alle 8 il gap non c'è o meglio c'è ma è momentum vado a lavorare se no mi fermo lì fino alle 8 e mezza metto la posizione poi vado a lavorare a fare quello che devo fare e con un occo ordine cancella ordine perché quella è una posizione swing quindi tu hai target e stop vai a vedere a mezzogiorno com'è successo lo fai per un paio d'anni e impari tantissimo ed è la cosa più stupida del mondo perché il gap è apro dentro il range di ieri c'è un piccolo gap aspetto che si sia esaurita la spinta in direzione del gap quindi se è un gap a ribasso aspetto che si sia esaurita poi mi faccio la mia entrata scalettata lo stop deve essere sempre il massimo o meno il giorno prima che è quello che chiamo stop strutturale target il livello chiusura gap preso dall'eurex perché se no c'è il dato sbagliato meno 1-2 tick per sicurezza fine quindi tu ti svegli c'è il gap no vado a lavorare ah c'è il gap benissimo aspetti anche finisca entro col mio cfd posso sopportare anche stop molto ampi poi parleremo degli stop metto un occo stop target ordine cancella ordine il primo che ti esegue cancella l'altro e vado a lavorare mezzogiorno mi ricollego e vedo cosa è successo tutti i giorni però perché deve esserci molta continuità poi parleremo anche dei tempi e modi se tu impari solo questa cosa e la applichi per un anno non è che abbiamo fatto tutta sta teoria capito è proprio una roba facile però ti abitui a fare una cosa che è fattibile sia in termini di orario cioè molto compatibile con qualsiasi cosa tu faccia sia in termini di di fattibilità quindi imparate poche cose e una alla volta di queste poche il metodo di per sé è molto semplice poi ha tante sfumature il v-wap l'initial balance lo stop un po' più largo però il metodo è massimi il giorno prima sei dentro e swing quindi vendi sui massimi e compri sui minimi arrivi a poc o chiudi il gap se li rompe momentum entri e training stop finito se rientra rimane momentum dall'altra parte come ha fatto adesso finito il metodo poi per applicarlo però ti assicuro che è molto complesso hai tante sfumature è lì che ti serve tanto tempo no? però dicevi di non seguire il poc o il v-wap il giorno di swing il poc si come target dell'operazione swing il poc del giorno prima il v-wap parlo di quello di oggi si però è meglio il poc a quel punto si si se vuoi lo filtri col v-wap magari sono uguali fai più consapevole però c'è una differenza tra poc v-wap del giorno prima che è fermo perché ormai è quello e quello di oggi che è dinamico e quello di oggi scusami hai ragione che usi nelle giornate momentum ma conferma nelle giornate swing quello di oggi non lo usi perché non ti serve a niente quindi ripeto è veramente molto semplice ma il DAX vedete ancora non ha chiuso il gap credo quindi in realtà io non avrei loro magari gli è sfuggito non lo so siamo persone quindi sbagliamo era meglio aspettare che chiudesse il gap e proseguisse che non entrare prima che il gap fosse chiuso dal DAX manca un tic aspettiamo infatti Andrea scrive DAX rientrato non vedo acquisti i v-wap fatica cioè il v-wap non sta seguendo il recupero se guardi beh un pochino qua si quello del DAX però si è un po' appiattito adesso scusate che vedi che si è un po' appiazzava salendo si è un pochino appiattito ripeto il volume ponderato per il prezzo quindi se si noi abbiamo lo stop a v-wap del dell'euro stops no vabbè siamo lontani c'è ancora guarda l'initial balance no 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 ce n'è ancora l'initial balance comunque insomma il tema l'avete capito il DAX è lì che gioca l'altro è dentro vediamo chi ha ragione o rientrano tutte e due o tornano sotto allora dicevo vabbè intanto eccolo qua forse adesso stanno un po' comprando tra l'altro questi qua allora per chiarire sono i time in se già filtrati se colpisce la bid della ask verde e rosso associato alla vendita associato all'acquisto poi ne parliamo per chi non mi conosce ma in realtà anche il tape reading è meglio farlo da qua cioè dire qua ne ho 800 1000 se vedo che li mangia e passano le quantità da qua allora li stanno comprando veramente aspetta aspetta facciamo con calma tanto abbiamo tutta la giornata ok allora dimmi si si adesso sembra un pochino più deciso però deve chiudere il gap perché se non lo chiude e ripeto vedi tu a entrare prima della chiusura gap questa è mezz'ora che siamo dentro col patema che non è una bella cosa invece se adesso lo chiude e lo supera soprattutto va probabilmente converrebbe entrare già con la seconda metà ma non perché chissà cosa nel senso nel momento in cui il Dax chiude e oltrepassa il slancio qui avendo patito tanto sotto vuol dire che hanno provato tanto a venderlo per farlo andare giù in un'ora mezz'ora quello che è non è andato dice bon entriamo con la seconda metà stop a VWAP e poi se il VWAP conferma perché qua il VWAP adesso vedi che un pochino sta salendo poi vi parlo anche del TV Book che noi usiamo abbastanza ed è abbastanza utile perché qua di lato c'è il Market Profile però fatto sui singoli livelli sempre verde e rosso prevalgono gli acquisti prevalgono le vendite allora dicevo e dicevo adesso lo teniamo lì più o meno si vede tanto avete capito più o meno cosa stiamo facendo ok fate che sia in Londra ok cerchiamo di fare allora tornare un pochino alla teoria che era il discorso che facevamo di capire bene quella che è la struttura del mercato cioè quello che vedete appunto ogni mattina qui struttura del mercato sono i trend e questo famoso momentum che sarebbe la spinta che vi aiuta molto a capire da che parte tira il vento e questo nei diversi time frame perché come la teoria dell'analisi tecnica più il time frame è alto e più domina sui risultati quindi volevo farvi un pochino poca di teoria e prima però di iniziare ecco esatto volevo parlarvi solo della regressione cognitiva e delle probabilità cioè a dire questo è molto importante allora regressione cognitiva vuol dire che tu a posizione aperta come siamo noi adesso io dico sempre da quel momento tu sei uno che non sa niente di trading cioè non illuderti di saperne sei come due persone diverse quello che ragiona è quello a posizione chiusa da quando sei dentro devi dire io non so niente quindi non permetterti mai di prendere una decisione a posizione aperta facilissimo quella roba della disciplina io la trovo molto forviante sai che ti dicono di essere disciplinato no non siamo disciplinati quando ho la posizione aperta io non capisco niente è più facile non pretendo neanche di prendere una decisione per quello faccio il piano prima e dentro prima cioè noi siamo in posizione adesso sì eccola qua c'è lo stop qua così è l'unica cosa che devi eseguire se arriva 32,44 pan se il VWAP sale aggiorni lo stop 45,46 40 sempre un tic sotto però o due quello che è adesso mi capite? questo è molto importante e concludo il discorso della disciplina in una parola non illudetevi mai di essere capaci di ragionare a posizione aperta perché siete per forza in regazione cognitiva sempre secondo me poi c'è quello che ti dice che siete capaci meglio cioè è sempre il mio modestissimo parere quindi ci sono due persone uno che è quello che fa il piano la mattina alle 6,7 a mercati chiusi è quello che una volta che apre il mercato guarda se c'è il gap e non c'è il gap decide di entrare clicca sei dentro basta da lì devi dire io non capisco più niente avevo sì scritto il target e lo stop target se è una posizione swing quindi nel tuo caso del gap sarà la chiusura gap meno 1,2 tick stop loss metti l'ordine automatico e vai via tanto non servi tra l'altro quindi anche rimanerli davanti oltre a perdere tempo invece vai a lavorare e piglia i famosi 50 euro che ti servono perché li metti qua dentro poi li investi non che te li spendi e li perdi ma ti compri tempo siccome per imparare ci vuol tanto tempo devi avere un po' di gruzzoletto dici ma io non ce l'ho che sono dove eh vai a lavorare e vedrai che te lo fai hai più tempo hai capito? quindi metti la posizione non la segui più perché tanto non sei in grado di seguirla e vedremo con la probabilità che non sei neanche richiesto non ti è neanche richiesto di capire niente grazie a Dio perché la reglazione cognitiva è brutta è quella che ci fa fare le stupidaggini rimango sposto lo stop ma ce l'hai a posizione aperta non quindi quando devi decidere come entrare lo stop in quel momento tu sei lucido e sai tutto è una grande fortuna saperla sta cosa non so se mi sono spiegato cioè a posizione chiusa io sono razionale ho studiato poco o tanto e decido tutto ogni trade ha tre prezzi stop loss target entrata mi decido eseguo da quel momento io non capisco più niente ma non mi è neanche richiesto di capire perché da quel momento divento un mero esecutore infatti noi abbiamo provato a dividere le due figure c'è quello che esegue il trade e l'altro che fa il regresso cognitivo che poi è quello meno capace che sta imparando che però deve solo eseguire lo stop o mi capite così proprio che come lavora nei fondi e non crediatevi quando uno dice faccio il trader nel fondo sì clicca il trader se è quello che fa la strategia quello che clicca e basta su istruzioni perché non viene lasciata discrezionalità mi capite è per forza diciamo ho fatto il trade istruzionale sì e che lavoro facevi? se si dicevano quando arriva qui compra quando arriva lì vendi sì per la carità hai fatto il trade però non è che dobbiamo avercelo per forza più lungo però ci sono tutti i mestieri no? come io dico sempre un concerto c'è la band che è sul palco ok tutti belli ma dietro mixer le luci cioè mi servono tutti ecco la regressione cognitiva quindi si risolve in questo modo voi capite in modo molto semplice che non pretendete da voi quello che A non potete dare B non serve perché a posizione aperta esegui solo il piano fatto prima dici ma non avevo il piano non entrare non entrare mai in posizione senza piano non ridecidere mai uno stop loss a posizione aperta perché chi è che lavora a posizione aperta? quello che non sa niente quello che è regressione cognitiva e qui vengo al discorso probabilistico poi arriviamo alla teoria magari facciamo anche un minimo di pausa vabbè poi ci sono tutte delle menate allucinanti ma importantissimi sulla routine condizione mentale alimentazione movimento devi fare un po' di sport il coso purtroppo è così è molto legato alla performance quindi è una menata però in pausa il consiglio è se noi facciamo pausa a 11 e mezza a mezzogiorno o comunque di fare un po' di sport su base settimanale per esempio non c'ho voglia non fa sto lavoro perché non è per te sì sembra una cazzata ma tutto perché sei seduto il corpo cioè ci sono varie componenti quindi ti devi anche un po' ossigenare e poi ti aiuta proprio a liberarti da condizioni mentali stressanti quant'altro eccetera eccetera comunque non vi tedierò con il discorso sport anche se poi stiamo facendo un esperimento ne avevo parlato e vi porterò i risultati allora dicevamo della probabilità allora probabilità vado un po' veloce principio probabilistico praticamente questa è una cosa importantissima se lo provo allora tu hai due tipi di probabilità eccoli qua che sono questi allora esiste una distribuzione casuale tra i risultati di ciascuna prova cosa vuol dire ciascuna prova è il singolo trade che tu fai qualsiasi da quando lo hai aperto distribuzione casuale da quel momento la probabilità di successo è 50 e 50 cioè prima di entrare stamattina uno può studiare non studiare dire a long shot hai magari appena appena la probabilità che la tua vada però da quando entri è 50 e 50 perché parla Draghi bravo quell'altro fa il coso la Scozia mi capite non dipende da te regressione cognitiva tra l'altro non ti è anche richiesto di ragionare a posizione aperta perché non dipende più da te l'esito di quel trade nel senso che l'esito di quel trade è 50 e 50 dal momento in cui ce l'hai a mercato mi capite cioè hai una distribuzione casuale ripeto tra i risultati di ciascun trade che tra l'altro a te non deve interessare quindi non ti deve interessare il fatto perdo o guadagno sul singolo trade perché a te interessa il risultato dicevamo fra 10 anni quindi fra 10.000 trade allora se tu oggi questa capacità di distinguere il breve e lungo periodo è vitale se tu oggi ti preoccupi perché hai perso sul singolo 3 stai sbagliando hai perso la visione dove stai andando cosa ti interessa di oggi abbiamo detto che te devi essere capace nel 2024 non oggi quindi oggi cosa vuoi che ti interessi te lo potevi permettere sì perché i 100 euro abbiamo detto che non mi scalfiscono mi seguite non ti devi preoccupare dell'esito del singolo 3 quella è una cosa che è una briciolina che ti aiuta a arrivare a lungo periodo cioè a quella sequenza di tanti trade 10.000 che allora sì ti devono interessare mi capite quindi quando provate quella sensazione di frustrazione da trader online senza offesa ho perso sul singolo trade tu stai guardando oggi ma te ti deve interessare fra 10 anni e tra l'altro stai guardando una cosa sulla quale non hai potere dal punto di vista probabilistico ditemi se mi sono spiegato cioè io ho aperto la posizione adesso guardate che se qua parla draghi o si sveglia qualcuno altro che long o short fa bremmi in un secondo questo me lo concedete e non dipende da me io ho solo il mio stop e il mio target fine e la probabilità che io a posizione aperta abbia un'influenza sull'esito del singolo trade è zero ma mi va bene perché tanto sono in regressione cognitiva quindi mi capite il giochino com'è a capirlo a trade aperto sono in regressione cognitiva disciplina non serve tanto non capisco niente quindi non serve essere disciplinato ma per fortuna non è neanche richiesto di capire perché tu tutto il tuo sapere lo devi mettere in campo prima di aprire il trade per dire entro qui i miei tre prezzi stop target profitto mi capite no? poi l'ho aperto basta vado a lavorare come dicevo a lei se fa la chiusura gap metto anche un ordine automatico e va benissimo così perché dimmi te noi siamo dentro da qua giusto? vediamo a che ora siamo entrati 10 e 23 40 minuti che siamo dentro io non ho mai guardato ma serviva che guardassi no lo stop è ancora viva ecco abbiamo alzato lo stop di 1 perché il viva è arrivato a 32,45 to posso dire no 32,48 forse lo vedo perché qua sul tv book te lo sei eh beh allora ho alzato lo stop ma non decido io doveva viva quindi il viva è a 32,48 stop sotto il viva quindi prima era a 32,44 adesso è a 32,48 quindi lo stop sarà boh 2 tics 8 3 non so adesso abbiamo delle regole a seconda se la pausa pranzo o no allarghiamo un po' ma insomma stop a viva 1,2,3 tics 8 4 poi parliamo anche degli stop e ripeto noi siamo dentro da 40 minuti vi giuro non sto facendo la scenetta poi chi vuole pensarlo lo pensi ma non serve a niente che io sia qui davanti non serve a niente perché non ho potere a sull'esito del singolo trade non mi interessa perché a me interessa guadagnare fra 10 anni se ce la faccio e in questi 10 anni magari mi accorgo di non essere capace e devo solo eseguire un ordine di stop quindi era 44 ha fatto 45 46 47 e ti dico vabbè meno male che aumenta nella sfiga che il DAX non ha ancora chiuso il gap almeno qua il VWAP sale e mi sta però sono un mero esecutore lo capite tu prendi uno che non sa niente di trading non so se c'è qualcuno che ha zero gli dice allora quando arriva ecco a lei che è meglio perché se non sa niente mi dice boh non tocco niente se no si rompe mi capite cosa sto dicendo mi dice amore quando fa 44 45 46 47 48 tu seguilo quando vedi lì schiacci e deve essere così allora il problema qual è che se sei da solo tu devi trattarti come due persone diverse uno che non sa niente non capite? e che proprio in maniera acritica vede il numerino vedi questa freccetta qua si vede poco tu la devi seguire adesso è a 48 boh arriva lì schiacci poi va a 49 dice non so niente però lo so profare sta roba gli dai un tastone e voi dovete ragionare così a posizione aperta invece cosa facciamo tutti se lì ha ragione no lo allargo aspetto ti capita quando ti capita stai sbagliando vai a lavorare che fa il primo perché è così è così e non serve grazie a Dio aggiungo perché voglio dire se la reazione cognitiva ce l'avessi quando devi decidere sarebbe molto peggio mi capite se tu fossi in regressione cognitiva a posizione chiusa come fai ad entrare poi magari qualcuno è anche in regressione cognitiva a posizione chiusa però comunque il discorso probabilistico aiuta uno il singolo trade a posizione aperta 50 e 50 questo scrivetevelo bello grande lo guardi ah c***o è vero era 50 e 50 ero qua che mi arrovellavo ma non dipende da me mi capite questa è una delle cose che dovete scolpirvi nella mente secondo mi deve interessare fra 10 anni non adesso quindi non mi devo mai far influenzare dall'esito della singola giornata del singolo trade ma anche della singola settimana o del singolo mese fermo restando che devi avere dei prezzi di scusatemi dei livelli massimi di perdita per giornata settimana mese anno cioè al giorno dice ho messo 10 euro di perdita massima se li raggiungo mi fermo e ricomincio domani dopo due giorni di perdita salto la settimana ricomincio lunedì e così via questo è molto importante perché se ne ha uno ok quindi il principio probabilistico sicuramente ci aiuta tantissimo parliamo allora a livello di probabilità e poi facciamo appunto una pausa un po' di teoria il discorso degli stop allora sempre a livello probabilistico lo stop loss è provato quanto più è ampio lo stop e quanto più è piccolo il target questo qua è uno studio che aveva fatto Linda Rush che è una che io ho seguito tantissimo e dalla quale ho imparato tanto quindi lei ha fatto sulle serie storiche sul suo team col suo team io mi fido molto e non sto a riscoprire la ruota dico l'ha fatto lei mi fido va bene ad esempio l'enticlo ho imparato da lei nel senso che lei lo usava io non capivo niente come lei ho detto vabbè se lo usa un motivo ci sarà invece c'è molto a volte la pretesa di capire perché io invece dicevo vabbè lo usa lei è capace iniziamo a usarla a un certo punto capirò perché l'ha usato infatti l'ho capito non so se a un certo punto riprendere qualcuno di cui ti fidi un po' ecco lei ha fatto questo studio io mi fido su serie storiche molto solide e praticamente viene fuori che se tu hai lo stop molto ampio e il target è piccolo le probabilità arrivano al 99% di successo certo sono insostenibili perché quella volta che perdi stop ampio ti rovini però questa cosa che non è praticabile non sto dicendo di far così va sempre tenuta presente cioè se tu metti uno stop stretto automaticamente certo deve essere contattabile col tuo rischio la gestione del rischio cioè il massimo che puoi perdere però quanto più metti lo stop stretto più ti giri le probabilità contro quindi ricordatevi che a livello probabilistico e ripeto più ampio è lo stop più piccolo è il target cioè uno mette 10 tick di stop 2 di target fate la prova se avete voglia e vedete che la maggior parte delle volte va bene ma quella volta perdi 10 e ti rovini non è sostenibile economicamente finanziariamente ok però va tenuto presente cioè è quella cosa che a livello probabilistico voi dovete tenere presente per compatibilmente con le vostre possibilità a livello di rischio allargare gli stop più che potete che non vuol dire fare la media ribasso o spostarlo lo stop si decide sempre a posizione chiusa mi seguite? una volta stabilito non lo cambi non è che dici aspettiamo un attimo che allargo perché la probabilità ma quella è una decisione che hai preso in corsa tu non potresti farlo a posizione aperta non decido niente eseguo solo quello che avevo deciso prima quindi a volte ti ritrovi a decidere a posizione aperta ma fai un minimo dico ah cavolo me l'ho dimenticato no non posso decidere io sono quello che non capisce niente e da soli è difficile farlo allora nel gruppo dice va bene allora tu esegui gli stop io oppure a volte gli faccio fare un giorno per uno ai ragazzi non so se uno fa il piano l'altro il quadro poi un giorno esegue e l'altro fa gli stop perché così c'è un controllo incrociato poi vedi dici tu a eseguire sei una pippa a fare gli stop sei bravissimo certo non è la roba romantica che ti immaginavi però serve tutto allora ci può essere quello che si offende e dice no ma io volevo fare il trade eh ho capito non sei capace mi capite no? però in un fondo perché bisogna ragionare un po' così serve tutto ok? quindi quello che vi consiglio è se trovate delle sponde questo è veramente molto utile allora stop ampi target piccoli probabilità a favore non è sostenibile economicamente finanziariamente però lo tengo presente ecco perché quando dico lo stop qui è chiaro che lo stop sarebbe sotto il minimo di ieri di un tick però magari vado a VWAP e poi gli metto sotto altri 2-3 tick più lo stop è ampio più le probabilità sono a mio favore certo deve essere sostenibile quindi noi per contratto non mi ricordo quanto possiamo perdere al massimo 20 tick 15 tick non mi ricordo dice dov'è? 15 non arriviamo sempre al massimo però controlliamo che mettendo lo stop sotto il VWAP stiamo dentro il parametro di rischio deciso a posizione chiusa quindi se io dico per ogni contratto non posso perdere più di 15 tick quando lui prima di entrare decide dove mettere lo stop dice entro qua quanti tick sono? ah sono meno di 15 lo posso fare il trade se sono di più non lo posso fare perché è incompatibile col mio rischio cioè non me lo posso permettere e quello che dicevo a lei è il gap uno prova a entrare dice ma dove va lo stop? lo stop va sul massimo del giorno precedente se è troppo ampio dice non posso permettere no vabbè fai o riduci la posizione col CFD puoi mettere lo stop più ampio ok? e vi assicuro in questo modo non c'è assolutamente quella che viene chiamata caccia agli stop perché tu hai degli stop completamente svincolati dal livello singolo del massimo del minimo proprio perché continui ad aggiungere filtri e filtri e finita e quindi a tenerlo più largo possibile quando te lo prende uno stop così proprio non ce n'era è anche per quello che hai molta facilità ad eseguirlo ok? allora riassumo le cose più importanti allora regressione cognitiva posizione aperta non decido niente tanto è 5-5-5 non dipende da me mi raccomando 2 mi deve interessare la probabilità nel lungo periodo 10 anni 10.000 trade non 1 quindi se perdo guadagno sul singolo trade io devo guardare solo come ho lavorato bene o male poi questo è il principio probabilistico in generale probabilità a livello di stop loss ripeto tenete gli stop più ampi possibile compatibilmente con il vostro piano di rischio usateli sempre metteteli sempre automatici e che siano compatibili con quello che vi potete permettere dice ma io ad esempio il future è troppo grande non posso usa ad esempio il CFD lo stop è da 10 euro magari te lo puoi permettere riduci la size il controvalore ok e direi che poi possiamo vedere un pochino di teoria appunto sul discorso allora facciamo un pochino di pausa se siete d'accordo purtroppo non posso staccare la linea abbasso solo il volume per le persone a casa e facciamo un attimo un caffè e poi andiamo e poi riprendiamo tra poco allora quanti viewer ci sono che lì te lo dice? ah va bene chiudi chiudi allora no dicevo non lo sapevamo nella pausa con le persone in sala e voglio girarlo a voi se siete a zero abbiamo trovato perché io i libri tendo a consigliarli in inglese ma questo qua è carino l'abbiamo scoperto adesso per caso tra l'altro è fatto da Maurizio Mazziero una persona che conosco molto valida e vedo che ha delle buone recensioni costa poco solo Kindle 12 euro formato Kindle ed è un'introduzione analisi tecnica lo dico per chi fosse all'inizio potrebbe essere una buona soluzione perché il Pring piuttosto che il Marfi costano 50 euro poi hanno il problema che sono tradotti e quindi di solito la traduzione non è mai fatta da chi lavora nel settore è raramente questo accade e quindi ha un po' di problemi poi dici ma cosa sta dicendo in realtà ha un problema di traduzione allora per quello io consiglio chi può di leggere direttamente in inglese oppure qua probabilmente Maurizio ha fatto non lo so l'ho scoperto adesso un lavoro di ottima sintesi e può essere un buon su 224 pagine quindi se qualcuno è a zero purtroppo io non credo in analisi tecnica però è un buon è una buona idea avere una base di comprensione quindi bisogna sapere quelle cose impararle per poi dimenticarle dico sempre ok cos'è che dovevo dire allora una cosa che mi sono dimenticato importantissima che riguarda il no il principio probabilistico non mi ricordo tanti due sono dimenticati la quotidianità ah ecco è molto importante la quotidianità sì attenzione a un'altra cosa come consigliavo a lei che è a zero piuttosto che chiunque iniziare magari con un piccolo pattern in un determinato orario facendo solo quello in un determinato mercato ma con costanza ecco la cosa importante è ricavarsi una finestra dove io sono sicura che faccio il suo caso ho i bambini che vanno a scuola alle otto e mezza quindi alle otto ci sono sempre faccio un esempio perché questo rientra nel principio probabilistico perché la probabilità di lungo periodo funziona solo se tu ripeti è proprio una questione probabilistica l'esperimento è nelle stesse condizioni no? quindi stesso mercato stesso metodo pattern stesso orario se tu un giorno mi fai la mattina il forex il pomeriggio l'SP500 la notte il gold il giorno dopo la mattina fai il gold poi salti un giorno perché non potevi allora lì cosa succede? quello che poi da trader online dice ah oggi è andato ho perso un movimento è perché non c'è costanza ma non solo la routine tutti i giorni va 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 ma di metodo sceglietene uno non il mio ma deve essere sempre quello di mercato quindi strumento e di orario perché l'euro stocks la mattina non è uguale all'euro stocks al pomeriggio l'SMP la notte che è influenzato come è accaduto stanotte dalle dinamiche asiatiche non è lo stesso SMP del pomeriggio io dico sempre sono delle persone anche perché dietro a un mercato ci sono delle persone comunque e queste persone sono diverse a seconda degli orari perché le influenze sono diverse quindi tu questa cosa del lungo periodo il vantaggio che hai con la metodologia qualsiasi essa sia emerge nel lungo periodo non nel singolo trade ma purché tu ripeta nelle stesse condizioni quindi non devi saltare neanche un giorno e devi farlo agli stessi orari dice ma io non posso lavoro trovati una finestra vuoi fare pomeriggio americano 19-22 sono stanca ma ce la faccio va bene io mi trovo meglio la mattina per esempio è anche più facile perché la mattina hai tutti i livelli ben piazzati il discorso del gap e compagnia pomeriggio tre e mezza per pure americana lo vedremo è molto complessa perché i livelli sono molto sporchi magari come oggi il massimo di ieri minimo l'ha rotto l'ha rirrotto è entrato è uscito quattro volte non vale più quindi devi cercare invece la mattina è più facile è tutto molto pulito ripeto l'Europa in questo senso ha un orario vantaggioso perché può essere ben compatibile con altri impegni lavorativi e simili quindi un'altra cosa importante mi raccomando come ero completamente dimenticato scusatemi è proprio quello di dire devo ripetere l'esperimento sempre nelle stesse condizioni quindi mi scelgo un mercato un orario un metodo che siano magari due ore al giorno un'ora quello che è e faccio quella cosa sempre uguale tutti i giorni per un anno e poi tiro un po' le conclusioni è una menata è poco romantico è noioso infatti uno dei miei magari mi avete sentito dire in altri video in altre cose è noioso perché è diventato un pochino un mestiere no? e come tutti i mestieri c'è un po' la cosa lunedì sai dopo un po' tutti i giorni alle 6 certe mattine e dici no no non c'hai voglia come tutti i lavori no? perché umanamente anche lì quando è che sapete di aver imparato un pochino di più? quando vi passa quell'eccitazione quella passione mi spiace dirlo perché la passione è quella che ti muove all'inizio io adesso mi dicessi di leggere il Pring mi butto nel Po piuttosto ti giuro non lo leggerei per niente non ce la farei però all'inizio non sei niente entusiasta allora ti dà leggi mille libri fai ti informi e ti muove poi quando diventi un professionista imparato non c'è più la passione diventa un pochino un mestiere ecco a un certo punto scoprirete ad esempio questa cosa è un altro segnale importante finché vi emoziona un po' la cosa non va bene perché non è ancora un mestiere ok quindi mi raccomando sceglietevi un orario un mercato un metodo anche facile lo fate tutti i giorni prima simulando poi con la posizioncina col CFD da 100 euro a salire via via però deve essere sempre lo stesso e non devi saltare neanche un giorno perché se no quel giorno lì capite nell'alternanza profitti perdite ti capita sempre che un giorno che salti era quello buono che ti rifaceva magari 5 giorni ok questo è veramente molto importante ok questo l'abbiamo detto questo l'abbiamo detto adesso andiamo a vedere il nostro trade vedete se io avessi messo lo stop loss era un po' tiratino col viewer sei tranquillo perché lo stop è sotto il viewer adesso è ancora lì a 48 mi sembra poi lo vado a confrontare qua e 49 sono un po' sfasati col tv book perché visual trade era un calcolo un po' più lento del BWAP allora dice quale prendo dei due sempre quello più largo se te lo puoi permettere perché più ampio lo stop più le prove dice non so quale prende tanto il calcolo è sempre parziale non è mai preciso dei due prendi quello se te lo puoi permettere che ti da il tick in più di stop quindi capite io da stamattina cosa ho fatto trade siamo entrati non guardo più il mercato ogni tanto vado lì ah cavolo era tornato giù vabbè ha resistito è buono che abbia resistito perché ha testato il minimo di venerdì non è tornato sotto il BWAP è bello intatto è chiaro che se adesso mi va BWAP e prende lo stop non faccio il trader online ma ha preso lo stop no adesso proprio non ce n'è più capite non c'è più la caccia agli stop la sfiga ste robe parliamo di struttura di mercato è cambiato qualcosa nella struttura e tu lo esegui senza dubbio cosa fate voi ma non voi perché c'è un passato io lo so sei lì oddio scende non serve a niente e decidi allargo e stringo cosa tanto non sei capace guarda c'è il sole vai a fare un giro è così o meglio allora se trovi qualcuno che ti dà due lì adesso sta risalendo non è che stai qui con le bandiere alle risale stai come no è VWAP il VWAP è il nostro training stop quindi questa qua magari la teniamo fino stasera alle 22 perché la posizione momentum è training stop tu devi solo guardare il VWAP e dice a lei con i suoi due tastoni il numero dove deve schiacciare oppure no questo non lo puoi automatizzare perché c'è il training stop automatico ma non usate quei cosi perché sono sempre un po' tricky non funzionano benissimo però voglio dire uno può essere in regressione cognitiva quanto vuole non c'è è solo le 22 speriamo cioè arriviamo a stasera se non prende il VWAP chiudiamo alle 22 meno un quarto meno 20 meno 10 la posizione momentum è così la tieni fino e multipli dal training che è il VWAP e non è che devi fare chissà cosa però capite il modo di fare training e non c'è ansia voi direte ah certo ci sono quelli a casa no fidatevi è così anche normalmente anzi il motivo per cui ho preso l'iPhone e compagnia è che io il 90% avendo loro io devo fare un coordinamento lo seguo da qui quindi perché ho preso subito quello con lo schermo grosso senza polemica Android c'era già vabbè non me ne frega perché qua con TeamViewer vedevo male è solo quel motivo lì ecco non c'è alcun tipo di però questo non vuol dire fate training dall'iPhone è una delle cose che mi rovina ok però apri la posizione vai a lavorare hai dentro un occo tu non decidi niente mi capite che lo sto dicendo a posizione aperta non decido niente però puoi anche usare l'iPhone se arriva a 48 esci mi capite dice ma non vedo tutti i grafici tanto non li devi vedere devi solo eseguire lo stop se arriva a stop mi capite quindi non sto dicendo fai trading dall'iPhone ma al limite a posizione aperta la posizione la puoi seguire da lì mi capite e dice ma non vedo niente meno vedi e meglio è tanto sei in regressione cognitiva quindi non ti serve neanche vedere le cose ok quindi la posizioncina c'è siamo a posto andiamo avanti tra l'altro o che ci crediate o no adesso mi fai la domanda vedete come opero e ripeto lascia perdere ci sono loro non ci sono loro ci credo non ci credo finto sai le solite robe da forma questa serenità di stacco è un mestiere mi riconoscete mi rivolgo alle persone più mature fai un lavoro in modo automatico no? perché hai imparato lo fai ti piace magari non c'è quella passione travolgente del primo giorno ed è un po' così anche questa cosa cercate di acquisirla monitorate voi stessi se tu a posizione aperta sei lì che fibrilli non va bene allora tu devi ad esempio Matteo mi diceva io riducendo la posizione col CFD ho imparato a essere molto tranquillo molto distaccato perché dico sempre per fare il suo messaggio devi essere capitalizzato cioè te lo devi permettere provate se tu hai una perdita massima che succede che crolla al mondo e perdi 10 euro sei bello tranquillo te la gestisci dall'iPhone perché anche se sbagli ne perderai 20 10 euro vuol dire che non so con un contatto con un CFD è tantissimo capite? quindi anche se va via la lina non è ecco però quell'atteggiamento di assenza di angoscia lo dovete interiorizzare e poi riprodurre nel momento in cui vi trovate a fare trading con size più importante a quel punto se tu riconosci che sei diverso tu dentro dici no c'è qualcosa che non va aspetta un attimo ok? perfetto va bene allora dice Andrea stiamo ai test ai massimi di giornata volumi mancano supportare discrezionalità pausa in arrivo non aiuto a 3 lasciamo stop in macchina sotto adesso andiamo in pausa vedi? lascia lo stop in macchina quindi lo mette automatico 3 tick sotto il view quindi adesso il view app è a 49 48 no anche qua è 49 vedete che mette lo stop automatico ok? e va a fare la pausa non sta qua davanti fino alle 2 e mezza che arriva sfinito ok? poi mercato americano riprendiamo e quant'altro è così che funziona poi va bene va male non mi interessa 50-50 ancora adesso la probabilità di questo trade è 50-50 io non ho potere ho messo il mio stop se lo prende quindi adesso possiamo anche spegnere se lo prende bene e se no male e se no bene mi capite? tendete a questo modello di lavoro ok? bene allora riprendiamo un pochino di teoria e ci tengo molto ma scusate ma ci sono due persone no? ha lasciato le giacche? ah saranno in pausa ok no no vabbè poco male e allora vediamo il discorso dei trend ma il trend è quello che ci studierai nell'analisi tecnica cioè quello della teoria di DAO partiamo da lì quindi sequenza lo saprete tutti di massimi e minimi crescenti nel momento in cui andiamo a vedere un attimo la qua non l'ha più scaricato allora nel momento in cui no volevo riprendere slide slide eccole qua che la fa? eccole dove è? pulse window cast mi ricordo qui per ruotarla come è? un po' stack tools rotate right ok allora il trend sequenza i massimi e minimi crescenti benissimo la cosa importante che voi dovete comprendere è analisi di DAO barabam barabam i quattro principi fondamentali va bene il trend prima che si inverte un po' ci mette il trend prima che si inverte un po' ci mette se avete seguito le videoanalisi o quello che sta accadendo in questo periodo è proprio quello che sta facendo l'euro stocks del DAX cioè sono ancora paradossalmente vediamo tra un'altra trend decrescente ma in grado i forti recuperi avvenuti da agosto adesso vediamo perché sono ancora formalmente in trend ribassista e per girarsi ci mette un po' qua che non si gira più mentre i trend americani sono in rialzo e anche loro per girarsi eventualmente arrivar se lo faranno mai molti dicono che sono iperestesi crolleranno ma comunque ci metteranno un po' di tempo non è che si girano così scusami tu mi dovevi fare una domanda ma guarda il principio probabilistico dice più ampio lo stop meglio è quindi ogni più tanto lo guardi è meglio è perché lasci lo stop più largo ah se poi lo riapro il computer ed è passato da 48 a 52 lo sposto a 52 sempre meno 2 tick meno 1 tick no no tu è sempre se vedi il discorso probabilistico tu ti devi ricordare più ampio è lo stop meglio è quindi quando hai una discrepanza fra i due VWAT invece di chiamare non funziona prendi quello più grande hai un tick in più stop ampio probabilità a tuo favore ogni quanto lo guardo se te lo puoi permettere meno lo guardi meglio è fidati che lo stop ampio prova simulando è quello che molto spesso andate se tenete già al diario a rivedere i trade provate a ipotizzare degli stop più ampi ma non non mi ha preso lo stop poi è andato quelle scemenze fate un calcolo reale statistico e provate a vedere ad esempio nei trade swing massimi e minimi il giorno prima un stop quello che io chiamo strutturale sopra i massimi e minimi il giorno prima che magari è molto ampio tu rifai tutti i trade che hai fatto swing dici se avessi avuto lo stop strutturale e magari vedi che tanti ti sarebbero andati bene perché tu stringendo lo stop probabilità te ne metti contro quindi se te lo puoi permettere meno lo guardi più lo stop resta ampio e più è meglio per il trade e se hai un po' tirato cioè per contratto hai come massimo perdibile 10 tick 15 tick metti che il tuo stop iniziale è 10 tick sei al limite della perdita massima giornaliera cioè se ti prende quello stop pomeriggio non puoi più operare allora si che lo guardi più spesso poi da quando a 5 tick o impari dici adesso lo lascio andare tanto mi prendesse lo stop posso ancora operare cioè non devi mai ragionare sul guadagno perdo ma mi compro tempo di apprendimento più ne fai e più ne impari accumuli esperienza quindi ogni singolo 3 idee ne ho vista un'altra e questa qui quando ricapita l'ho già vista perché è proprio così quindi non devi mai pensare neanche guadagno perdo dal singolo trade ma più dura più imparo quindi quei CFD dice boh metto 100 euro e il vostro gioco è far durare i 100 euro più possibile e ti compri tempo e didattica e apprendimento averne viste tanto sapendo che li perderai prima o poi perché ok li investi nell'apprendimento ok allora questo è il discorso base il momentum precede i prezzi è per quello che la mattina rompo tanto succedendo rompo tanto col momentum poi vediamo cos'è perché è la cosa più difficile da capire mi rendo conto allora dice lei che inizia oggi secondo me se lei ve lo giuro fra tre anni inizia oggi ha capito cos'è il momentum per me è già un successo invece umanamente tu vorresti che non so a ottobre a novembre già aver capito cos'è no magari umanamente abbiamo questa spinta fidatevi non capire cos'è ma saperlo leggere è molto complesso ma quando hai capito come si legge te lo tieni lì perché il momentum precede i prezzi cioè se tu sai leggere il momento i prezzi seguono non è poco allora sì non fai previsioni ma sai dove vanno perché lui li precede ok quindi quando la mattina quella roba lì non la capite fa niente piano piano potete però dire ah è negativo perché boh a me mi pareva positivo è quello che dico fatela anche voi quell'analisi che è una menata confrontatela e è lì il lavoro grosso non è neanche fare trading all'inizio uno dovrebbe fare un anno di sta roba tutte le mattine e poi dopo inizia a simulare e poi dopo inizia con il CFD i tempi sono questi per quello che dico fai lasci il lavoro oggi no fai lavorare fai solo l'analisi mattutina dice ma io alle 7 non posso falla alle 9 non guardi il mercato com'è ti fermi alla sera prima mi capite no e te lo leggi come se il visual trader se tu non so chi lo usa stacchi qua al tempo reale il grafico te lo lascia fermo quindi tu la sera lo stacchi alle 22 se la mattina anche ti colleghi alle 11 non vedi cos'è successo e fai tutte le tue analisi come se fosse mercati chiusi sarebbe meglio staccarlo alle 7 cioè quando c'è stata già la notte asiatica quindi idealmente uno dice devo andare a lavorare mi alzo stacco il visual trader così ho tutta l'asia e poi quando in ufficio gli altri fanno la pausa vanno su facebook io mi faccio la mia analisi e va bene così prego no vabbè è solo perché costa poco e funziona quello lì va bene solo esatto però è solo le barre daily non hai quelle intraday cioè non hai il grafico orario ntc no quello lì ti dà il grafico giornaliero cioè ti dà questi qua quindi è come avere la foto grande della montagna ma non in dettaglio quello lì se lo apro adesso mi fa vedere questo qua il grafico giornaliero senza la barra di oggi però non vedo ieri venerdì che strada ha fatto capito? quindi non puoi leggere il momentum intraday quell'orario ntc quindi ti serve trattato questo ve lo regalano con diretta ve lo regalano e comunque c'è vabbè adesso vediamo allora il momentum precede i prezzi altra cosa molto importante mettetela lì quando capirete magari fra tre anni siete a posto perché quella roba lì vi rimane tutta la vita e cosa hai imparato? una roba che viene prima dei prezzi non è poco quindi dateli tre anni per capire di leggere come si fa una roba che anticipa i prezzi sarà importante non è che tu dici domani voglio aver capito se so leggere il momento il momento precede i prezzi sono a posto poi ci sono mille filtri però e poi l'altra cosa importante è che adesso non lo trovo il i prezzi precedono il valore che sarebbe quello del market profile la value area il POC il VWA quindi la vera catena Matteo lo scrivi tu che io sto morendo e non riesco a alzarmi scriviamolo lì alla lavagna allora le frecce sono momentum prima dei prezzi quindi se sapessi leggere il momentum o quando lo saprò è la cosa più bella è il primo che parte quindi parte il momentum dopo ci sono i prezzi quindi vedo proprio variare il prezzo dopo e dopo a conferma che è il famoso discorso dell'accettazione che faccio la mattina quando magari il giorno prima ha fatto un grosso movimento in una direzione precisa è il valore il valore sarebbe market profile POC o meglio VWAP quindi perché seguo il VWAP in intraday perché io so non si vede perché sono troppi ragionamenti che sto facendo ma in teoria ho letto il momentum stamattina ho visto che il momentum si era girato prima del rientro nel range di ieri sono questi i famosi filtri vedevo un momentum positivo dico boh il momentum positivo il si sta invertendo a livello ntick a livello intraday era questa cosa qui qui è avvenuto il momentum positivo l'accelerazione di momentum positivo che corrisposto con rientro nel range di ieri quindi anche con la regoletta quella schematica quindi sono sicuro che il momentum precede i prezzi i prezzi seguiranno certo poi può succedere di tutto però di base è così ma dopo se è tutto vero voglio che il valore segua il view up infatti con un view up crescente 49 da 44 mi conferma è il terzo pezzo mi capite? è il più lento che si sposta infatti stamattina quando c'era il momentum in giù cosa ti ho detto? ma vedo il view appiatto mi mancava il terzo pezzo perché stamattina c'è stata apertura molto giù il momentum era molto forte e negativo i prezzi erano scesi ma il valore non confermava il view up o se guardi il market profile il POC quindi mancava un pezzo adesso invece c'è stata un'accelerazione di momentum e adesso andiamo a vederla che è avvenuta qua poi vi spiego perché con un view up crescente il momentum ha preceduto i prezzi o meglio non ancora perché noi siamo entrati qua più o meno quindi cosa vuol dire? che questa accelerazione di momentum dovrebbe riflettersi in prezzi più alti cioè prima del pomeriggio sera dovremmo avere prezzi qua il momentum precede i prezzi quindi se io so leggere questa cosa i prezzi seguiranno certo poi una volta dentro 0,50,50 solite robe mi capite? ma la logica è quella in più lo vai a filtrare con le regolette stupide dell'era anche rientrato nel minimo di ieri quindi il DAX è rientrato anche lui in gap mi capite? ma prima hai letto l'accelerazione di momentum ma perché devi leggere il momentum prima? perché precede i prezzi quindi noi siamo entrati leggendo l'accelerazione di momentum e sapendo che a regola nulla di scientifico però i prezzi seguono e 9 volte su 10 seguono 9 su 10 ma veramente allora attenzione a una cosa però questo ragionamento quando lo fai solo 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 quando sei in ambiente momentum direzionale cioè non mi fai la lettura del momentum in ambiente swing cioè se sei nel range del giorno prima o peggio nella value area del giorno prima uno dei problemi ad esempio usare il VWAP dicevo che è la terza parte mi capite? quindi mi raccomando tra tre anni il tuo scopo è aver capito cosa ho detto oggi tanto il video rimane lì su youtube te lo riguardi a un certo punto lo capisci cosa volevo dire ti rileggi il libro diceva cazzo ecco perché è complesso è veramente complicato vi posso dire che alcuni dei ragazzi sono ancora un po' titubante sulla loro lettura del momentum e tutti i giorni da un anno fanno strumaziare la mattina lo correggo e ancora ogni tanto umanamente me lo sbagliano e non è da un anno che facevano sta cosa c'è gente che mi segue da cinque anni allora quello è il mio obiettivo momentum precede i prezzi quindi io devo imparare a leggere il momentum i prezzi precedono il valore cos'è il valore? vi ho a propos vabbè lo capirai segnatelo hai capito com'è l'atteggiamento non pretendete di capire tutto oggi avete dei paletti anzi abbiamo anche la registrazione poi la macini rileggi l'analisi la fai tutti i giorni guardi quella del sabato ti scrivi le tematiche macinando piano piano sapendo che magari a un certo punto dici no forse non sono capace e questo tenetelo presente perché è nelle cose nel momento in cui inizi il 99% non riesce perché quell'uno quella volta che mai capitasse che eventualmente riuscisse si rimane un messierino che non è male a quel punto mi capite non sto illudendo nessuno quindi il consiglio per tutti lavorate o tornate a lavorare o andate a lavorare se ce l'avete o cercate allora lettura del momentum come primo obiettivo precede i prezzi precede i valori allora discorso indicatori io non li uso ma perché? non perché sono bravo ce l'ho più lungo ste robe quando voi ci sono gli indicatori di momento perché chiaramente cosa succede che l'omino vuole impacchettare la roba più bella siccome non c'ha voglia di lavorare siamo umani dice ah io mi faccio il coso come lo dice lui così io vado al bar quando lui mi indica il momentum il momentum precede i prezzi io entro lo capite? nascono da lì gli indicatori perché l'indicatore è arriva lì compra arriva lì vendi io intanto mi faccio i cazzi miei non mi alzo alle 6 non devo andare a correre cioè io lo capisco il discorso dell'indicatore che è il tentativo di impacchettare poi non è che non funziona dice io mi trovo bene usali siamo tutti contenti mi seguite non è una polemica non mi interessa niente cioè come dire android iphone io uso l'iphone mi trovo bene dice no ma android è meglio lo schermo va bene che devo fare mi seguite dice c'era già da tanto lo schermo grado ho capito io voglio aspettare è capito a un certo punto uno sceglie anche no allora l'indicatore che cos'è lo capite bene è un pacchettino che dice tu sei al bar ah guarda lì per comprare quelle robe lì incomprensibili che leggerai nel manuale compra vendi ma cos'è un pacchettino poi alla media mobile metti lo stop media mobile che vedi solo tu perché l'hai settata a 30 a 20 esponenziali quella è una roba tua non è che gli istituzionali vedono la tua media mobile a 20 all'inizio guardano il VWAT dato certo il massimo di ieri il gap dati certi i punti che vedono tutti lo capite qui vince chi ha più soldi chi ha tanti soldi l'analisi tecnica ve lo assicuro ho lavorato in un fondo per due anni non sa neanche cos'è ma veramente non è una presa in giro non sanno nemmeno cos'è ma al di là di questo lo capite l'indicatore che cos'è è il tentativo della formula magica che ti dice lui quello che devi fare tu non mi alzo non devo fare il piano c'è lui che mi dice il momento mi è aumentato a che bello entro secondo voi una roba così può funzionare avendo contro quelli là no vedendo le robe un secondo dopo no anche perché qualcuno di voi li usa l'indicatore o li ha usati è vero che sono calcolati sui prezzi mi date ragione la formula magica giusto sei già in ritardo di uno step perché l'indicatore prende il prezzo e fa il calcolo ma soprattutto per elaborare poi ritarda anche lui tant'è che vedete l'indicatore al momento in tempo reale è sempre un po' sballucchiato poi dopo si aggiusta mi seguite cosa sto dicendo chi è un po' più avanti ma tu già per definizione ti dico mi dai la formula per favore allora è il prezzo di ieri più la barra di oggi si e allora stai lavorando qua sotto lo indichi Matteo sto morendo lavori con l'indicatore mettilo tra parentesi no prima del valore perché loro manco il profile manco lo guardano l'indicatore è calcolato sui prezzi ma è sotto addirittura mi capite perché quindi tu hai allora la piattaforma non per colpa del tuo fornitore dati ma perché siamo in Italia non arriva da francofotte il dato in un secondo non fa la strada lo capite questo neanche dal CME ancora peggio a Chicago anche con la linea più veloce ora che arriva qua ed è come negli anni 90 vedere i prezzi il giorno dopo oggi lo capite questo questo tenetelo a me io sto vedendo le robe di ieri tempo reale ma yes come direbbero non è reale hai già uno svantaggio poi noi abbiamo un trading come vedi molto dilatato hai visto siamo entrati alle 11 a mezzogiorno quindi non ci serve ma il tape reading io devo sapere che vedo una roba già successa ieri se poi vado a metterci anche l'indicatore ti vai a dare la zappa sui piedi perché ritardi ulteriormente questo è proprio un dato tu devi aspettare che si muova al momento poi i prezzi si muovono sul prezzo calcolo l'indicatore quindi c'è un'elaborazione minima e esce un risultato un numero una linea sei indietro di due tappe per carità magari funziona benissimo non dico che non funzionino ma sei in ritardo allora io potendo scegliere ma io Stefano scelta personale fatta nel 2005 non ieri io ho sempre detto due cose uno imparo da chi fa i soldi ma non perché ho il mito del denaro ma perché qui vince chi ha più soldi e con quelli dimostra di saper fare quello che sa fare mi capite? ma non vuol dire esibire ricchezza o robe simili no? persone un po' strutturate a volte andavo ai corsi come voi diciamo sto qua come fa? non voglio imparare da lui perché se lui diventa se io va tutto bene divento come lui non mi piace non è che voglia essere ricco mi capite cosa sto dicendo? purtroppo qua il metro è quello purtroppo non è una hollus uno però poi può prendere i soldi e sì allora fai tante cose fai la tua bella fondazione quindi questa è la prima cosa che mi sono posto e la seconda nella catena dei prezzi scoperta sta roba io cosa ho detto? io voglio imparare a leggere il momentum perché sono per primo cioè già c'ho sta roba che è in ritardo già io sono indisciplinato non pretendo di essere disciplinato o di fare lo zen di mangiare le bacche poi magari le mangio perché ho la panza ma non per il trading in sé certo se ti sfondi la sera prima il giorno dopo non riesci perché non capisci niente ma quello è un altro rischio cioè ci vuole un po' di regola è vero l'estremizzazione magari penso che all'atleta venga concesso il junk food day no? cosa sì è vero quindi mi capite no? questo è molto importante almeno secondo me è sempre la mia idea quello che penso è la mia esperienza che io vi porto e lo faccio da dieci anni questa è stata un'altra cosa che volevo fare ho detto vabbè io intanto che imparo lo scrivo qui magari a qualcuno serve era quello il mio scopo non voglio buttare via quello che e mi metto dicevo l'altra cosa a imparare a leggere quella roba là in alto così sono in anticipo certo sbaglierò papapapà ma sono sempre in anticipo e quindi sul singolo trade magari ci piglia lo stop loss ma nel lungo periodo sicuramente il vantaggio se c'è emerge allora vediamo come leggere il momento poi magari leggete il libro che lo capite un pochino meglio allora sostanzialmente tu devi comparare l'ampiezza degli swing questo su qualsiasi time frame questo è l'entic e appunto la mattina c'è daily orario vediamolo intraday stamattina apre bram swing down no? una gamba in giù ok lo swing up successivo è vero che ha un'ampiezza uguale giusto? è lungo o uguale sai quello che ti fa la righina così fai così dici boh mi sembra tanto non è scienza mi sembra uguale circa o meno vabbè ok questa è l'ampiezza dello swing più o meno uguale ok però poi c'è l'intensità chi è che ha martellato di più? la discesa qui all'inizio o la salita? a me sembra che le candele della discesa siano un po' più decise ne ha fatte due con gap il gap è una candela rossa è come se qua fosse rossa fino al livello chiusura gap perché è sceso quindi ha fatto rosso rosso giù poi una bella verde ma la seconda meno quindi l'ampiezza più o meno un po' meno ma l'intensità è ancora in giù ok? poi qui lo swing down non c'è stato vedi che ha provato a farlo non l'ha fatto ma quello up era un po' debolino devi proprio comparare l'ampiezza degli swing e l'intensità poi ne ha fatto uno in giù oh vediamo allora ha fatto tre barre rosse e ha fatto questa strada qua che è più o meno la stessa di quella up giusto? qual è più forte? quella in giù o quella in su? quella in giù si sta girando il momento ma non ho ancora la conferma però magari si sta girando questo messiere tu lo sovrapponi al discorso del è rientrato nel range a chiuso il gap mi capite nelle giornate momentum momentum momento ce la potete fare perché anche io poi mi sbagliavo e lo facevo nelle giornate swing la spinta la leggo nelle giornate direzionali qui dico ah magari si gira ed è la domanda che mi ha fatto lei ma quando uscivi qui non c'era solo il view a piatto ma avevo letto è chiaro che non te l'ho detto prima perché ti aggredisco con mille concetti e vai in palla però avevo anche letto un principio di inversione del momentum se io sono short avevo il momentum in giù qui forte bello deciso quello in su quasi uguale ma ancora un po' meno quello in su un po' debolotto quello in giù che sembra più forte ma perché si sta riducendo adesso non mi ricordo cosa ho detto ma venivo al discorso successivo perché tu devi comparare l'ampiezza degli swing e l'intensità nella stessa direzione e nelle direzioni opposte cioè per il principio di inversione guardi nelle direzioni opposte ma poi devi confrontare questo con questo che era l'altro swing down allora vedi che sta rallentando è complesso forse ho fatto anche confusione scusate andiamo con quello dopo swing up questo swing up è ve la faccio facile più ampio e più intenso del precedente swing down quindi inversione di momentum mi capite? lo vedete più deciso no? e anche del precedente swing up che è sto pirlino qui quindi c'hai un'inversione di momentum che è confronto con lo swing precedente nell'altra direzione e un'accelerazione di momentum che è confronto con lo stesso swing precedente nella stessa direzione non mi capite? quindi qua vedete che questo è l'accelerazione di momentum qua il momentum mi ha detto che precede i prezzi perché si è invertito e essendo più ampio del precedente c'hai anche un'accelerazione allora qui tu sai che 9 su 10 il momentum sta accelerando i prezzi seguiranno quindi entri noi quanto siamo entrati? non mi ricordo sono entrati a 56 che è qui proprio perché erano successe tre cose uno rientrò nel range del giorno prima due non mi hanno aspettato che il Dars chiudesse il gap e quella è una minchiata vabbè siamo persone non devi essere troppo capito no? tanto lo fai sempre quindi era meglio comunque aspettare che il Dars chiudesse il gap e poi avevano letto correttamente un'accelerazione di momentum non solo un'inversione di momentum ma anche un'accelerazione di momentum cosa vuol dire? che l'ultimo swing up era più grande del precedente swing down e del precedente swing up quindi si era invertito e accelerato lì sei là in alto ma deve essere una giornata a momento momentum non fatelo domani ma in casi simili un pirulino mettilo sempre dentro target il retest del massimo precedente cioè a volte ti fa la sparata però deve essere ambiente momentum sai che magari arrivi alle due non so il dato non c'è più perché non succede niente alle due e mezza però che ti fa la sparata oddio ho perso non ero dentro ero a mangiare avete presente quella sensazione? ecco quella leggetegli swing ma fatelo sull'n-tick non sul grafico a tempo sotto l'orario usate l'n-tick mi dice ma perché tra tre anni lo capisci usa nuota se ti fidi poi dici non mi fido voglio andare da non so chi mi capite cosa perché se no stai a ridiscutere inventi la ruota non ci metti dieci anni ce ne metti cento per adesso non i tic no a parte che ci sono mille video sull'n-tick c'è uno di un'ora e mezza adesso vi faccio vedere allora tutta la parte teorica poi le vediamo è comunque sul blog che ormai è un po' deposito di tutto quello che c'è stato cioè tu vai qua video corsi gratis e c'è proprio la playlist grafici n-tick qui c'è proprio come usarli come dico dura un'ora e sedici te lo guardi immagino oggi come se tu stessi pagando quindi non ti rubo i soldi te lo vai a guardare e questo è sono i contenuti del corso a pagamento vedete che non ci sono bandiere cose un cazzo infatti io faccio così vi va bene evento unico perché non ripeterò mai più una cosa del genere lascerò online un po' il video per chi ha voglia di guardarselo non lo monto così ci sono le pause devi andare avanti con lo slider cioè insomma minimo di sbattimento no? ma perché? ma lo faccio per loro perché se te c'hai il video con in mezzo al buco di un'ora di pausa non hai voglia di far così qualcosa di youtube non è per te il trading cioè c'è già un filtro capito? perché fai il corso a Torino ma a parte adesso Freccia Rossa non è così folle ma perché se per te che sei di Milano o di Verona con una scritta un ragazza ti dice ma è lontano è lontano piglia Italo è tutto dritto e partirà un po' prima cioè è mettere quello scalinetto in più per fare già una grossa selezione no? che vuol dire non illudere le persone che già almeno sono venuti fin qua poi magari non sono capaci però un po' di impegno alla base c'è allora quando vedete le sparate quasi sempre il ritest del minimo precedente massimo precedente se la giornata è momentum te la rifà quindi tu dovresti momentum fa una pausa avete presente che ritraccia un po' fa la pausetta se la pausa te la fa fleghettina bella tirata dritta avete presente cosa sto parlando quindi c'è giornata momentum c'è un'accelerazione di momentum non pretendete di saperla leggere domani che vi fate a pezzi però imparatela a riconoscere adesso entrerei simuli target entri in direzione del momentum target primo target il ritest dei massimi minimi precedenti e vedete che cosa succede ad esempio stamattina vi fasse l'entrata short era proprio questa perché ho detto ragazzi entratemi al minimo scusatemi quando ritesta i massimi di ieri i minimi di venerdì scusate entrate per il riteste del minimo precedente quella è l'entrata momentum che sto dicendo cioè stanotte ha fatto la sparata per l'USD giapponesiano è sceso tanto quindi io alle 8 ero qui c'è un forte momentum in giù giornata momentum sono sotto i minimi di ieri ritraccia entri in direzione del momentum perché 9 su 10 il riteste dei minimi massimi precedenti te lo rifà quindi tu entri qua e vai o cerchi di andare qua poi giornata momentum il view app non solo non scende come dovrebbe ma addirittura sale a view app esci il view app è come un muro anzi in una vera giornata momentum come adesso deve rimanere sempre sotto è come una media mobile però che rimane veramente sempre sotto a volte la testano guardatelo soprattutto sull'SMP500 e vedrete come funziona tanto tanto bene view app per chi non lo sapesse sul visual trader fate gli indicatori la listona non so se avete presente poi fate view app che l'hanno aggiunto di recente di nuovo non lo trovate in tutte le piattaforme normalmente a pagamento qua ve lo regala sì ogni tanto si impalla ma è tanto valore aggiunto e il view app è qua in fondo poi lui ve ne mette 5 perché è tipo le bande di bollinger non so perché l'hanno fatto così probabilmente gliela ha chiesto qualche utente cioè c'è un view app e poi anche le deviazioni standard vabbè solite robe levate gli ervino voi li togliete tutti e tenete solo il view app 0 centrato che è quello vero gli altri sono tutti colorati gli altri li cancelli tieni solo quello centrato esatto il view app chi avesse il tv book magari non fatevelo oggi però siccome avete se lo fate tipo il primo ottobre due mesi di prova no? perché è un mese solare babà ecco la freccettina qua a volte sono discrepanti quale uso quello che ti dà lo stop più ampio perché stop ampio probabilità a mio favore ok quindi io qua perché non soffro e ho la mia posizione perché io tutte queste pensate le ho fatte vabbè io le faccio in automatico è quello che dopo dieci anni ti viene fuori sto male ma io non è che ho guardato la chat e ho detto ai ragazzi fanno così no io so quello che è il metodo perché poi io dico sempre sono il primo seguato c'è un'altra cosa che la noia non sarei neanche in grado più di rifarlo il metodo pensate un po' no ma lo giuro non è marketing da quattro soldi perché io oggi non sarei non ho le forze di rifare inventare una roba del genere quindi lo lascio lì ma io sono diventato un seguace non mi sento neanche di toccare una robina così che va ma poi è andato in che anni sette otto nove dieci cioè anni devastanti io vi giuro mi ricorderò sempre il giorno di Kerviel ve lo ricordate? avevo un trader singolo c'era ancora trading live le facciano le lezioni così andiamo la mattina alle otto ci troviamo e è venuto giù abbiamo applicato non mi giuro non sapevamo perché poi era la roba di Kerviel uno dei primi crolli poi è venuta la crisi pesante però anche in quei casi da panico vero tu applicavi il tuo metodino certo vai in palla poi non ero così bravo e quindi però non ho avuto mai un giorno se ci chiedete ci chiedete se non ci chiedete fa niente dove ho detto perché è successa sta roba non ho capito mi seguite? non guardo mai le notizie dico alle due e mezza parla Draghi ok succede qualcosa poi la sera o la domenica vado a vedere cosa ha detto è importante ma non in tempo reale guardo cosa succede sul mercato ecco veramente ti dà anche questa serenità di riuscire sempre a leggere quello che accade e ti mette a dura prova tutto molto perché a volte passano i mesi lo vedevano i ragazzi dove non succede niente magari continuava a salire a salire prima che il trend su Dax e Stock si invertisse a ribasso era là in alto non si capiva e l'America muove i massimi tutti i giorni e tu lo vedevi che qualcosa non andava e però ti mette alla prova che se ti fa due mesi così mi dice ma vai via di testa veramente non perché perdi magari nel dubbio non faccia niente aspettiamo mi dice mi metto qua e qua però poi alla fine c'è sempre stata questa cosa di dire ma non avevo ragione l'avevo detto la previsione è cosa che non dovete fare mai anche se vi trovate a fare una previsione fermatevi subito non serve ed è fuorviante e non serve per far soldi mi capite sono un po' crudo scusate però far previsione non ci fa i soldi quindi se vuoi fare il massimo però è un altro mestiere ok il DAX ha chiuso il gap meno male quindi noi saremmo entrati adesso a 56-57 e non eravamo per un'ora con l'angoscia però vabbè la posizione è perfetta comunque il DWAP comunque adesso c'è anche la pausa pranzo però vedi che io come stop c'ho l'initial balance linea blu range a due ore che è un concetto di market profile ci sono i video nella playlist minimo di ieri venerdì viva se mi piglia lo stop io non faccio il trader online oh dio mi ha preso cattivi la caccia agli stop no perché ha preso dentro tre robe grosse e punti oggettivi che vedono tutti non è la tua media mobile a 20 periodi ribaltata che hai inventato tu a casa da solo mi capite questi sono livelli universali e tu devi guardare questi non puoi guardare l'indicatore per quanto raffinato che lo seguono in quattro che tra l'altro non c'ha neanche soldi e qui vince chi c'ha i soldi perché chi ha più soldi che cosa fa ragioniamo mette gli stop più grandi giusto e aspetta perché c'ha i soldi e vince perché stop ampio probabilità a tuo favore tu non fai una lira sei lì con un tic e ti prendi le mazzate diciamo ma come faccio riduci la size lavora con un euro due euro intanto impari e magari fra tre o quattro anni qualcosa hai capito mi seguite? scusate se vi sei molto duro ma meglio così che perdere soldi allora quindi tutto questo lavoro che voi dovete fare cioè qual è il consiglio? dice ma io voglio continuare non voglio tornare ben inizio allora intanto smetti di far trading e inizia a simulare seriamente capendo stuera parla a leggere il momento prima di ricliccare compra vendi sappi almeno leggere quella roba lì tu se domattina uno di voi compra o vende secondo me non ha colto l'essenza a meno che non sappia già leggere il momento dice ma io lo voglio imparare adesso vabbè mettiti lì un mese una settimana giorno e notte lo impari non è difficile devi vi riguardate quel pezzetto di video confrontare gli swing nella stessa direzione e nelle due direzioni se lo leggete sul libro c'è e adesso lo capite c'è proprio il capitoletto perfetto infatti adesso volevo fare le signing session mi sono dimenticato no lo volevo anche ristampare perché la Epli sta facendo questo grosso lavoro avete visto ma ziero non lo sapevo quindi c'era la possibilità di stampare con loro che è una bella cosa cioè non è una casa editrice stanno un po' investendo con numeri buoni perché poi a livello distributivo ti mettono su Amazon nelle librerie in tutta Italia è carina una cosa quindi dico boh mi metto lì lo aggiorno non ho tempo poi ti danno delle percentuali ridicole è per quello che l'ho regalato gli ho detto anche se lo vendo a 10, 20, 30 euro loro ti danno 10% metti che lo vendo a 30 euro che è già un furto a me mi arriva in 3 euro faccio prima regalato è stato quello il discorso di allora perché non è che dice ed è stato letto tanto io stimo che sia stato letto io dico il più letto in Italia ma è realmente così forse anche perché è grazie non lo so però i download da quella ufficiale sono sopra i 5.000 ma da tempo adesso non so più ma poi ho notato proprio ieri facevo una ricerca e c'è l'hanno ripostato tanti siti il pdf quindi non so neanche che riccia abbia avuto ma anche lì non è per dire dico sempre io ringrazio Guglielmo che mi ha preso quell'anno lì e abbia scritto il libro perché non l'avrei più scritto non riesco manco a rimetterlo a posto a livello di editing e mette due esempi un po' più recenti che quelli sono del 2008 che sarebbe un lavoro che dice boh io non so 2.500 copie penso di vendere a 10 euro così proprio in un attimo in qualsiasi casa editrice ti diceva bene oggi in Italia il disco d'oro dico sempre sono 6.000 copie quando sentite il disco d'oro in Italia 6.000 copie per dire la critica quindi se tu che sei non spiegato mi vedi 2.500 te la fanno stampare perché comunque per loro sono 2.500 per 10 sono sempre 25.000 euro poi c'è il secondo libro e quindi però momentum cioè dei prezzi siamo a ritest dei massimi precedenti è quello che dicevo diceva non è ah che bravo la previsione no è così 9 su 10 sono 10 anni che mi rompo le balle qua davanti ormai lo so l'ho acquisito per quello dico bisogna acquisire tanto screen time cioè vederne tante però nelle stesse condizioni gli stessi orari tutti i giorni perché se salti un giorno magari salti quel giorno che serviva a guardare che cazzo succedeva ok e quindi io lo so che quando c'è un'accelerazione di momentum giornate momentum è molto probabile che almeno un ritesto dei massimi te lo fa adesso che cosa deve succedere qual è il tema del mercato Matteo secondo me sta soffrendo molto il fatto no ma il tema cosa deve fare adesso il mercato superare i massimi precedenti e rimanere stabilmente sopra e se magari ce la fa alzare anche il VWAP che mi conferma perché il momentum precede i prezzi i prezzi si devono mettere stabilmente vedi il ragionamento come lo faccio sopra i massimi precedenti e il valore deve seguire quindi io poi ho bisogno anche del VWAP e il VWAP a 3049 3049 non mi si muove lui dice come cazzo è no che ore sono a cazzo dal mezzogiorno la liquidità è poca noi adesso siamo a correre o a mangiare o tutte e due quindi il VWAP non si può spostare in pausa pranzo perché tutti gli istituzionali liquidità sono a mangiare VWAP è volume weighted average price quindi il prezzo con i volumi quindi si muove solo se ci sono volumi in orari pausa pranzo non si può muovere per quello gli orari sono importanti 8 2.30 5 19.22 le pause pranzo di solito la liquidità scende e se tu vedi il VWAP adesso che non sale è normale perché siamo in pausa pranzo se robe non le puoi sapere da solo per quello gli orari sono molto importanti infatti prima dicevo se rientra vi ricordate in un'ora decente allora entriamo è chiaro che se rientrava adesso su pochi volumi il movimento poteva essere falso ma tu non puoi stare 24 ore qua davanti devi fare le pause umanamente quando le fai quando anche quelli con i soldi fanno mangiare infatti mangiamo sempre un po' presto perché alle 2 torniamo e la sera alle 7 se uno vuole fare da sera americana deve essere lì ok? anzi facciamo anche noi la pausa allora 12.30 non so ci sono dati oggi c'era Draghi che parla alle 3 mi sembra qualcuno di voi lo sa mi sembra di sì la posizione va da sola cercate di acquisire questo modo di operare molto tranquillo regole una volta che le scegli le applichi ho potere sulla posizione? no la candela sono angosciato no ho il mio stop guardo dov'è lei mi esegue lo stop idealmente così io non sono nelle regrezioni cognitiva o metto uno stop automatico come dice lui ogni tanto lo vado a rivedere adesso lo vai a rivedere alle 2 tanto sai che il diwap in pausa pranzo non si muore però vedi tutte queste robe se io te le dico tutte insieme guardate veramente chi mi ha scritto che aveva mezza idea di rimanere domani a tutti ho detto vediamo perché valutiamo insieme perché secondo me già adesso se andaste tutti a casa avete un anno di lavoro belli sereni per poter godere degli altri insegnamenti dico eh poi per carità rimaniamo anche pomeriggio e va bene così io direi che possiamo trovarci se voi siete d'accordo alle 2 potete iniziare a tornare e riappro la sala e riprendiamo 2 e mezza così se qualcuno vuole godere di un po' di sole ma bce non c'è ah ok vabbè c'è un'audizione di draghi magari c'è un po' di marchi ma tanto è prima dell'apertura americana quindi la nostra posizione è lì vedi alle 3 parla draghi non è che tu hai grande potere su tanto vale che vai a mangiare stai tranquillo allora ragazzi io non vengo con voi e mi scuso sarei venuto credetemi però non ce la faccio devo proprio star zitto un'orettina e mezza a 2 se no come non ce la faccio ci vediamo dopo un VWAP che con bassi volumi come in pausa comunque sale implica che bassi non sono stati cioè in pausa c'è stata un'accumulazione di una posizione eventuale per il pomeriggio poi non è che loro sanno dove va però hanno con un brutto termine che non usiamo mai scommesso su un proseguimento del recupero gli Stati Uniti hanno una divergenza in corso perché il Nasdaq è sopra al minimo di venerdì quindi anche lui è diventato già momentum up ha un VWAP crescente l'SMP invece manca perché non l'ha ancora superato anche se il VWAP è anche lui crescente quindi direi tutto bene per il nostro trade controlliamo quant'è il VWAP adesso che è 32,50 qui 32,51 qui direi che dalle 2 2,5 in poi possiamo mettere lo stop a 48 che va bene perché prima eravamo mi sembra a 48 con 3 ticchi in meno quindi 45 vedi che piano piano la tua posizione si costruisce poi uno dice no vabbè ma tanto avendo il minimo di E io vedo che il VWAP è salito ed è salito in pausa ok là dove normalmente i volumi sono bassi quindi è positivo per la nostra posizione il Nasdaq ha recuperato quindi nella divergenza USA Stati Uniti si è scusate Europa Stati Uniti il Nasdaq ha recuperato i minimi di venerdì quindi si è allineato a Europa vedete come si ragiona sempre per temi di mercato come fossero delle persone sta andando lì è andato anche l'alto quello va di là aspettiamo ribalta completamente lo capite il principio il modo di fare trading perché non c'è l'indicatore il coso è la comprensione dei mercati purtroppo richiede un po' di tempo e di pazienza allora il Nasdaq ha recuperato i minimi di vendita si è arrivati in Europa l'S&P no non ancora diciamo meglio anche se direi entrambi hanno a loro volta che è una buona cosa in un ambiente momentum Rewap crescente buona cosa in un ambiente momentum che era iniziato con un momentum down molto forte con la notizia asiatica e che è stato riassorbito non solo ha recuperato quindi c'è stata un'inversione di momentum ha seguito i prezzi hanno seguito in pausa il BWAP non era ancora salito il valore non aveva seguito è rimasto un po' lì a 49 non mi pare di ricordare adesso il BWAP è salito non di tantissimo ma è qualificato dal fatto che l'ha fatto in pausa e vedete come è pulita la linea del BWAP quindi il valore sta seguendo capisci che tu non ragioni come oddio esco adesso poi alle tre e mezza apre sai quel ragionamento da 3 del online tipico c'ho il profitto e non si ragiona così perché così è matematico perdere c'è una tematica in corso poi magari adesso ci prende lo stop non lo sappiamo ma a noi il singolo 3 non interessa tu hai chiaro questo e te lo puoi permettere capitalizzazione non è un problema segui con assoluto distacco ripeto provate a tradare con size minime vedrete come effettivamente cambia proprio l'atteggiamento e acquisite un modo di tradare che è questo di staccato e quindi oggettivo senza dimenticare che comunque sei in regressione cognitiva quindi io non vado adesso a spostare lo stop al limite lo tengo appena più largo ho detto il diva a 50 almeno di ieri è a 50 boh facciamo a 48 se te lo puoi permettere tenerlo appena più largo comunque volge le probabilità a tuo favore per il discorso probabilistico stopanti target piccoli insostenibili finanziariamente ma quando lo posso fare lo faccio specie nelle giornate momentum sulla giornata swing lo stop deve essere più preciso se penetra i minimi o massimi del giorno prima non è che c'è tanta ir lì li ha rotti se parte si trasforma in momentum ti fa a pezzi quindi lasciati 2-3 tico cerca un livello che ti può andar bene ma un massimo ancora precedente se uno vuole mettere un filtro ma lì devi essere un po' più rigoroso più rigoroso nell'allargare lo stop non devi esagerare parlo di stop strutturali cioè quello stop strutturale è quello dove cambia l'ambiente di trading da momento scusate da swing diventa momentum ma è il contrario perché all'inite il momentum come oggi si gira da down verso il basso si è girato per ora verso l'alto quindi adesso capisci l'atteggiamento di chi legge quello che sta accadendo va bene ha fatto massimo superiore il vivo apsale è salito addirittura poco sopra al massimo di ieri quindi meglio di niente dice sta ritracciando va bene anzi forse è il momento di comprarne un altro a 50 per il pomeriggio adesso c'è Draghi che parla magari no vorrei che me lo dicessero loro cosa vogliono fare però questa è una buona entrata perché hai tutte le paperelle dico io allineate sei andato in pausa con un view a porizzontale adesso è crescente ripeto quando lo fai in pausa è raro di nuovo screen time esperienza dopo mille pause ed hai visto il view a piatto quando lo vedi che sale già cazzo sale hai più confidenza a entrare su situazioni simili e la discesa che fanno non è fatta per diciamo spaventare il discorso da forum spaventano il trader online o gli vanno a colpire gli stop non è così perché gli stop del trader online non sono soldi l'uno contratti l'azioncina anche massificati non è che siano chissà cosa magari quello lo fai se proprio devi nelle giornate swing non certo nelle giornate momentum ciao no abbiamo solo iniziato un po' così ma ripetiamo e quindi c'è un motivo in più per fare questa cosa allora Andrea dice alle 15 c'è Draghi che parla posizione corretta non ha non sa se può e gli dico segui live raddoppiamo ecco questa cosa che sto facendo in realtà è ragionare in regressione cognitiva quindi vi sto dando un cattivo esempio vi sto decidendo di raddoppiare non si fa o meglio voi non fatelo dopo 10 anni magari quello che dico a loro e loro non riescono ancora a fare è che non te ne fai prega talmente nulla ed è veramente un distacco derivante dalla noia non da chissà cosa dal fatto del mestiere che io riesco di nuovo non perché ce l'ho più lungo infatti loro lo sanno sbaglio sempre e spesso ma riesco a però non sono stato due ore di pausa qua davanti a guardare cosa faceva o mi spavento o ho dei dati oggettivi quindi con un grande allenamento forse facilitato dal fatto che non ho una gran passione per queste robe dico vabbè è salito ancora sopra bam 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 entriamo non c'è alcun tipo di coinvolgimento emotivo non vi illudete di poter fare una cosa simile domani perché veramente lì il decennio serve tutto perché devi proprio cioè non te ne frega talmente tanto quello di regressione cognitiva non c'è più perché quello di regressione cognitiva è quello che ci tiene quello che se quel giorno perde si dispiace quello che allarga lo stop e io ma solo con lo screen time e tanto tempo ho visto che queste robe non mi vengono più da fare anche prima del gruppo ma perché ho fortuna di aver fatto sta roba che vedo che funziona finché va non mi ritengo neanche così né capace di modificarla e né quindi in modo semplice io direi che si potrebbe ad esempio raddoppiare lo stop ce l'hai a 50 siamo a 55 se prosegue il ritracciamento possiamo entrare molto vicini al livello di stop di nuovo ho un trade a tre prezzi vedi per ragionare la istituzionale adesso il trader online è lì che piange e dice oddio mi prende lo stop l'istituzionale raddoppia accumula a prezzi favorevoli mi capite la differenza quindi lui non è che lo fa scendere come forum perché lui nel senso tutti in un mondo volumi milioni perché sono cattivi e vogliono andare a prendere lo stop del trader online che c'ha dentro un contratto da 30.000 euro ma perché vuole costruire una posizione da centinaia di contratti e lo fa a prezzi favorevoli se ipotizza come sto facendo io che il pomeriggio prosegue quello che è il tema in atto fermo restando che c'è più però l'entrata è molto favorevole allora tu trader online quando vedi il trader oddio mi prende lo stop escop è vero che capita lo so perché l'ho vissuto e invece questa è un'occasione d'acquisto e per quello che tu con un contratto solo questa esperienza grande non la farei mai invece noi adesso siamo dentro con uno lo scopo è arrivare alla full position quando? quando come dico le paperelle sono tutte allineate quindi quando hai come mi sembra adesso una buona probabilità pre-trade che vada a buon fine poi da quando apro il trade come sempre è 50 e 50 la mezza la fai quando sei un po' insicuro no? stamattina infatti il fatto che lui abbia aperto prima che il DAS chiudesse era da mezza posizione se invece il DAS avesse chiuso probabilmente già stamattina dico si poteva entrare già con la piena ok? però ripeto io questa discesa la vedo come favorevole va bene allora quindi vabbè si è già risolto ci ho preso lo stop proprio adesso quindi tutto quello che abbiamo detto è stato annullato no lo stop ce l'abbiamo ancora qua perché aveva tenuto 3 pic lo vedete qua no? se lo vediamo adesso lo colpirà è a 47 quindi aveva tenuto un po' di margine vediamo che cosa fa vedete che stanno testando il VWAP gli indici USA future lo usano moltissimo proprio questo tipo di cose è tipico quindi magari adesso ultima speranza tra virgolette è quella che da VWAP risalgono sì perché poi il movimento ecco su un dato è reale solo quando cambia l'ambiente cioè il dato è veramente negativo positivo quando cambia l'ambiente di trading cioè dire Nasdaq era momentum up dentro il range di ieri cosa ha fatto? dato negativo giù ha appena appena rotto i minimi ed è entrato non è cambiato l'ambiente il dato è neutro il S&P 500 oppure aveva momentum down era sotto il VWAP per ora sta tenendo direi che il dato è neutro questa è una falsa negatività serve proprio per spaventare invece se cambia l'ambiente da swing diventa momentum o inverte la direzione del momentum allora sì è un dato rilevante questo è il modo migliore per capire se un dato è infatti prima del dato e adesso lui dice che non c'era mi dicono che forse ce n'era uno poco importante vabbè qualcosa sarà successo però poco male dicevo e vedete comunque che uno stop appena più ampio magari ce lo prende però abbiamo modo di vedere se gli altri tengono il VWAP usa NQ e S&P mi capite no? chiaramente lo scendono sotto il VWAP ce lo prende lo stop quindi come capite è anche questo molto importante quello che avevamo detto prima lo ripeto velocemente che comunque abbiamo avuto in pausa un VWAP crescente che in ambiente momentum direzionale è conferma già normalmente di una direzionalità se poi avviene in pausa cioè quando i volumi comunque dovrebbero essere bassi vuol dire che i bassi non sono stati hanno trainato il VWAP nella tua direzione poi tutto può succedere ma è ancora abbastanza in piedi adesso vediamo che cosa succede lo stop lo vedete qua sotto si vede si è l'asteristino lì non si vede tanto ok adesso il DAX è già rientrato testando il VWAP nel minimo di ieri e anche l'Eurostox mi capite? quindi magari vediamo ok vedi che però non hai un grosso coinvolgimento emotivo non ti spaventi quando perché io so che non devo decidere niente il trade è in piedi volevo comprare un altro Andrea ha detto no non ci siamo dentro quei tic fatta facile in termini di rischio non l'abbiamo comprato e adesso aspettiamo se ci prende lo stop o no vai a valutare se proprio riesci se lo stop era ben posizionato o no fatto che adesso siano rientrati mi dice di sì certo che se ritornano sotto me lo prende ma a quel punto proprio non ce n'era immagina se ti avesse preso lo stop adesso e vedevi che rientrava sai con quelle sensazioni ah cavolo per quello è la probabilità comunque adesso magari ce lo prende ma stop ampio comunque aumenta le probabilità a tuo favore certo devi vedere l'avete proprio visto in azione no se è sostenibile o meno perché io gli ho detto Andrea prendiamone un altro andiamo in full position dice no quello è risk control capito no controllo del rischio no non ce la facciamo e siamo rimasti dentro con uno solo quindi vedete proprio la dinamica di funzionamento del trade che è molto più professionale mi viene da dire no tu hai delle domande? hai delle domande dico? se ne avete fatemi perché è chiaro tutto dimmi l'ambiente swing è abbastanza semplice nel senso che tu hai massimi del giorno prima come riferimento un'apertura all'interno degli stessi è meglio all'interno della value area del giorno prima perché la value area è il rigonfiamento a livello volumi che rallenta l'azione del prezzo quindi se apri lì dentro è ancora più swing ancora più non direzionale quindi in modo semplice prendi i massimi del giorno prima che diventano l'area di vendita di acquisto con stop al di fuori degli stessi e il target è sempre il POC del giorno prima dove nei due man mano che ti avvicini ai massimi inizi a venderne uno e poi cerchi di vendere il secondo meglio che puoi però se ti torna indietro almeno sei dentro con uno stessa cosa dai minimi intanto che va giù ne vendi uno più vicino che puoi sempre al tuo stop infatti dei tre prezzi se volete questo scrivetelo che è importante allora ogni trade ha sempre tre prezzi lo stop il prezzo di ingresso e il prezzo di vendita target è profitto quello che è però lo stop è il più importante perché perché poi tu vai a eseguire come ti sto dicendo soprattutto in operatività swing meglio che puoi rispetto allo stop quindi non sai mai prima quant'è il prezzo dove entri ma specie in operatività swing entri meglio che riesci rispetto allo stop quindi quando hai due quattro dieci contratti man mano che ti avvicini inizi a venderli o a comprarli perché se no rimani fuori se si gira prima quindi non so costruisci solo a mezza posizione riparte vabbè però sei dentro invece andare con un contratto solo ti vizia molto mentalmente perché aspetti 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 e poi riparte senza di te invece scalettare l'ingresso che non è fare la media ribasso mi seguite no? è proprio una tecnica di entrata quando hai dei volumi molto alti quindi entro meglio che riesco rispetto allo stop a quel punto dopo aver eseguito hai il secondo prezzo che è quello di entrata e poi hai il tuo target che nell'operatività swing è tipicamente il POC o VWAP però del giorno prima poi li guardi tutti e due e ti dai una mano comunque metà range idealmente e poi aspetti che vada giù ricompri sempre idealmente e torni a metà range quando esce dal range in teoria tu molto a livello teorico prendi il primo stop perché tu ogni volta che va sul massimo e minimo dovresti vendere e comprare quindi la prima volta che esce il famoso falso breakout non è un problema perché la prima volta che esce tu sei dentro swing ti prende lo stop e capisci che magari si gira momentum a quel punto aspetti che stop e reverse non si fa mai e su una seconda uscita il discorso first fade second go with che magari adesso vi dico entri più convinto perché hai preso lo stop riesce la seconda volta dal range a quel punto sei più sicuro che sia momentum e vediamo dimmi massimo e minimo il giorno prima poi lo vai a qualificare se hai vicino dei punti tipo un massimo precedente o simili un po' di tic non fisso cerchiamo un affiglio dico io cioè andiamo a vedere un attimo qua soprattutto guardando anche il market profile adesso oggi non è un buon esempio perché allora prendiamo per esempio qua guarda che bella questa è la tipica giornata swing un profilo molto normale ossia una ribaltata di 90 gradi massimo e minimo il giorno prima tu cosa fai? qui lo stop era il minimo e il massimo che sono anche il livello di entrata uscita giusto? cioè quando arriva in questa zona vendi si la ragiona sempre per aree non in punto preciso proprio perché scaletti l'entrata quando arriva in questa zona compri target il POC del giorno prima poi vai a vedere anche quanto era il VWAP se proprio ci tieni e vedi ecco poi per qualificarlo cosa avrei fatto questo giorno? qui è il minimo del giorno prima siccome è un po' tiratino c'è questo bellissimo minimo che è anche vicino due giorni prima prendo quello quindi non è un numero fisso di TIC cerco sempre certo ma infatti adesso sempre lo senno di poi ma qua perché lo vai a qualificare perché l'area protegge io dico sempre il volume del market profile come i cuscini ti proteggono come avere i materassi che tu vai contro non ti fai male quindi tu qui hai un bel materassone sei molto sicuro e fai swing avanti e indietro qua dentro se esce sai che sei nel vuoto non c'è più il materasso ma qua fuori c'è un altro bel materassone allora magari ti prendi quest'area qua quest'area qua se te lo puoi permettere perché qua in alto dice io mi piacerebbe metterlo qua ma non me lo posso permettere vabbè a livello di rischio metto lo stop qua è un po' il discorso di prima però vedi l'entrata chi qua adesso non so la giornata non mi ricordo ma se tu aspetti il massimo preciso per entrare con un contratto solo non entri se invece man mano che si avvicina inizi a costruire la tua posizione almeno magari un contrattino l'avevi messo dentro perché piano piano che si fosse avvicinato ai massimi del giorno prima adesso è un esempio però è per farti capire come un contratto solo non ti fa capire com'è realmente tu sei lì con la cartuccina aspetti lui torna indietro prima invece l'entrata scalettata ti aiuta molto mi raccomando sulle operatività swing poi c'è il discorso del gap molto semplice che però si fa solo in operatività swing stamattina c'era sì un gap ma la chiusura gap essendo un momento perché eravamo fuori dal range di ieri non si facesse ok allora prego aspetta che voglio vedere a che punto siamo ecco molto spesso è utile invece di guardare le candele se siete emotivi guardare qua perché vi aiuta di più vedi l'ultimo prezzo adesso non si vede tanto è questo qua con la freccia blu quindi siamo sopra il massimo di venerdì rosso non so stop sarà qua sotto non mi ricordo qua c'hai il POC di oggi che comunque fa da magnette quindi un pochino dovrebbe tirare in su meglio di niente e vediamo come va perché dico questo perché magari te ti sei spaventato anch'io dici oddio si prende lo stop e ragioni un po' guardando il market profile market profile non ha la candela rossa la cosa toglie tanta emotività e guardi i livelli da qua e vedi anche i volumi dici ah cavolo c'è il POC di stamattina c'è anche il POC di ieri vabbè un po' di magnette ne lo fa lì sopra magari ci torna niente di che però ragioni qua invece se guardi la candelina rossa così è molto emotiva infatti una cosa che è un pochino critico ai ragazzi che tendono a guardare poco il market profile cioè lo avete visto mi stanno sempre di qua e guardare qua il ticchino così è molto da tradere online ti guardi sta roba ogni volta rossa verde ti viene un colpo se hai i soldi cioè sei capitalizzato è chiaro che guardi questo perché si aggiorna molto lentamente ti dà una visione del mercato e tra l'altro è anche più furbo fare una cosa simile perché con le aree no? tu guardando di là lo sapevi che c'era il POC oggi io no sinceramente il VWAP è molto in basso VWAP è quello ponderato è il POC quello vero è molto più in basso però il POC a tempo il market profile è quello a tempo se non lo sapete su un video ve l'andate a vedere quello a tempo è più in alto quello di oggi quindi ha trascorso tanto tempo sopra il concetto di market profile quando sta tanto tempo sopra un livello è accettazione di quel livello no? quindi ha accettato il fatto di essere risalito sopra i minimi di mervi quindi tutto può succedere io non ho potere su questa posizione mi sembra di essere ancora ben posizionati poi un'altra cosa che contesto e ragazzi spero mi stiano ascoltando è che passano le ore a guardare il muro qua loro dovrebbero continuare a scrivere invece magari per 5 ore non scrivono niente c'è il loro bello stop loss invece devi fare come sto facendo io continuare fatelo ad aggiornare perennemente il tema del mercato cos'è successo? allora qui dovevano scrivermi a su un dato non so cosa comunque alle 14.30 c'è anche il discorso dell'orario tondo c'è stata una discesa molto forte questa discesa ha modificato l'ambiente di trading? no quindi non era una notizia negativa poi lui mi ha detto no non c'è notizia vedete no? c'era notizia no finito tutti andiamo al bar no allora qualcosa è successo a maggior ragione se non c'erano notizie mi chiedo se era vera negatività è una minata a far così è meglio stare qua davanti così con l'iPhone a mandare messaggini è chiaro che è più bello no? però se non aggiorni costantemente il tema aspetti lo stop loss certo te lo prende oppure guadagni ma non sai perché invece devi costantemente quello che io faccio al sabato è una visionalisi è buono per voi perché non lo devi aggiornare lo aggiorni una volta a settimana quindi anche a non essere capaci ci ragioni tutta la settimana e ce la fai più cresci professionalmente più il tema sei capace di aggiornarlo costantemente su time frame più piccoli e vedete che io lo aggiorno costantemente loro sono in posizione nessuno scrive che cosa sta succedendo questa cosa non va benissimo fa niente stiamo imparando lo dico sempre non è un problema però tu devi dire allora c'è stata una notizia negativa dice non c'era notizia vabbè qualcosa è successo però essendo due e mezza precise magari era e non ce ne eravamo accorti dopodiché questa notizia come è stata accolta dal mercato regola se non cambia l'ambiente di trading la notizia è neutra hanno solo spaventato i trader online fine a noi non ci hanno spaventato perché abbiamo imparato di tenere lo stop ampio per un motivo probabilistico è rientrato sui minimi di ieri meno male il viva è ancora crescente non so cioè fare un po' di ragionamento così chiaramente se adesso dovevo scrivere scendesse ancora sotto il minimo ieri e il viva lo stop me lo prende ed è molto qualificato non è che mi ha fatto la caccia agli stop alle due e mezza notizia o quello che era negativo broom non me l'ha preso torna su torna giù stavolta me lo prende e non faccio il trader online sei molto sicuro però se non aggiorni costantemente il tema questa cosa vedo che fanno tanta fatica è un anno che lavoriamo tutti i giorni cioè per dirvi quanto non voglio offendere loro anche sono persone splendide molto impegnate ma vedi che fai sempre fatica cioè questa è la realtà la realtà è che la tua mente ti porta sempre fuori strada costantemente allora ti sei svegliato alle 6 eh e ora alle due e mezza ancora devi salire a scrivere io dico scrivete sempre perché non sono capace tra dieci anni non è che gli faccio scrivere il tema il fatto di aggiornare il tema lo vedete nel mio caso è proprio parte di me lo faccio costantemente quindi non è che lo sto a scrivere non c'ho più voglia però guardo il mercato torno dalla pausa cos'è successo allora il di guap è salito ah quindi e proseguo con la tematica mi raccomando ragionate sempre per temi ok allora c'è la domanda dimmi no la notizia a te non deve interessare devi sapere solo gli orari secondo me quindi tu dici la mattina ci sono tanti anche diretta te lo dà l'agenda macro ad esempio quella di trading week è quella che dà anche diretta mi sembra che la dia è gratuita non mi ricordo com'è? esatto su mille siti gli danno le notizie del giorno all'inizio non capirai niente poi col tempo capisci quelle che contano quelle che no in realtà oggi muovono molto poco il mercato da un paio di danni a questa parte mentre fino al 2005 2006 2007 quando usciva il dato le due e mezza il mercato si muoveva tanto oggi si muove molto poco però di solito la notizia è quella delle due e mezza è quella tipica molto forte poi ci sono alcuni dati la disoccupazione eccetera eccetera il sito trading week è buono perché o quello che dà diretta ti mette le stelline quindi sulle varie notizie che sennò ti travolgono e aspetta eh agenda macro vediamo se me la ecco no devi loggarti ma è gratuita l'agenda macro vedi oggi oggi è 23 no allora domani alle due e mezza ti dice c'è questo dato qua alle 16 c'è questo qua parabam parabam ti dà quelli che devono ancora arrivare agenda completa mi sembra che basta vedi tutte le aree settimana corrente e ti dice che tutte le aree settimana corrente dov'è? qua no vabbè insomma poi ti dà ah nessuna pubblicazione no mi sembra ah no tutte le aree vediamo usa vabbè comunque ti mette le stelline e ti dice il dato più importante è meno importante sì allora quindi e riassumiamo ancora la tematica torniamo un attimo di qua poi adesso vediamo alle 3 parladraghi fra 5 minuti quindi magari il mercato per adesso lo stop ha tenuto vediamo cosa succede diciamo che in America il DWAP vedete che lo guardano molto cioè molto preciso come è dato da noi insomma specie perché il pomeriggio poi l'Europa non più tanto però tende un po' a seguire gli Stati Uniti allora il DWAP magari lo perfora ma non perché solo perché tende un po' a seguire gli Stati Uniti e per quello devi essere un po' più tollerante rispetto allo stop adesso vediamo se quando parla Draghi dalle 15 c'è un po' di movimento di solito quando fa queste abiezioni durano una mezz'ora e poi alle 3 e mezza facciamo l'apertura degli Stati Uniti intanto che aspettiamo è tutto chiaro la posizione in cui siamo è chiara a tutti tutto a posto cercate di memorizzare questo modo di fare trading poi ci sarà la gente che è lì sul forum a scrivere il suo cattivo va bene e che non è vero e va tutto bene a me non interessa vero o falso voi dovete secondo me tendere a questo modello di distacco voi vi ricordate come tradate se l'avete mai fatto? ecco finché non arrivi a questa perché capisci tendo a controllare la regressione cognitiva poi so di esserne vittima ma perché sono stato qua tanto perché ormai non me ne frega più niente e il distacco ti porta a essere oggettivo perché se c'hai passione ti frega la passione serve a lei che appena hai iniziato per leggersi quelle robe e mi sparerei tutt'ora no no serve impararlo e dimenticarlo no ma poi devi imparare tutto e lo devi dimenticare no è una cosa ma adesso voglio aggiungere quello lì di Mazziero che è una brava persona e penso abbia fatto un buon lavoro quindi sicuramente allora e dicevo il trend allora il momentum l'avete capito più o meno poi voi avete accesso ve lo riguardate confronto l'ampiezza dello swing e l'intensità a seconda del time frame quindi lo puoi fare anche sul daily sul settimanale sull'orario sotto l'orario sempre mt quanti tic c'è il video e confronti lo swing con lo stesso dalla stessa parte per vedere se accelera mi capito e con quello dalla parte opposta per vedere se ruota il momento quindi quando stamattina i ragazzi scrivevano anzi andiamo a vederlo un attimo su facebook ok giusto per capire che da domani lo capite meglio quel coso lì no poi adesso vi spiego anche i trend che in realtà sono i trend della teoria di DAO quindi quelli che trovi su quel video va tutto lento comunque se loro dicono momentum orario sul Nasdaq rialzista tu vai a guardare e vedrai che gli swing up sono più lunghi degli swing down cioè spara verso l'alto quando dicono sta ruotando quando dicono indefinito è perché vi capiterà che tu dici swing up down dopo un po' dici allora quando hai il dubbio è sempre indefinito non all'inizio eh ah scusate sì sono annoliccato di nuovo le foto e purtroppo per entrare in facebook io non lo uso mai privatamente però per entrare nella fanpage devi fare tutto sto giro ogni volta un po' lento comunque adesso guardiamo che cosa dicevano comunque quando leggete indefinito andate a rivedere all'inizio vi conviene guardare cosa dicono e vedere se lo capite perché poi dopo un po' lo leggete voi a mercati chiusi sul giornaliero e orario non è difficile trend orario o a due ore scegliete voi cosa vedete meglio quindi all'inizio lo leggi vai sul grafico e dici ah sì è crescente il momento già quell'esercizio sono imparate ragazzi è tantissimo poi dice come vai crescendo non capisco ok no indefinito perché andate a vedere probabilmente ne fa uno in su uno in giù uno più corto l'altro più lungo dice no vabbè è indefinito il momento un indefinito quando è che ce l'hai tipicamente in una giornata swing o nelle correzioni a bc noterai la famosa correzione a bc di cui parlo che nel trend adesso ve la spiego è sale e scende sale e scende sale e scende fa una pausa più lunga come adesso sta facendo un po' negli Stati Uniti e se vai a vedere il trend sull'orario è indefinito il momento scusami è indefinito perché per imbalza lì dentro non c'è uno swing che prevale aspettate un attimo voglio vedere qua cosa diceva stamattina vediamo di capire il mestiere che secondo me dovreste fare voi poi al sabato all'inizio guardate la videoanalisi e vi rifate voi il tema sulla vostra piattaforma attendere mi piacerebbe che voi da soli dite qual è il nuovo tema del mercato e te lo scrivi poi vai a vedere ah cavolo avevo capito no non avevo capito perché poi io non è che sia la scienza sbaglio anch'io eh anche quella di vita faccio il venerdì sera a lecco e a volte mi sparerei quindi non so se si sente a volte sono un po' provato tipo sabato avevo la febbre ho fatto la mattina è venuta bene lo stesso non so perché però sai anche lì otto anni tutti i venerdì sta menata cioè è pesante eh guarda che sono delle volte anche d'estate in vacanza cerca il wifi e la rete adesso ecco il 4G abbia risolto mi ricordo una volta ero in Germania non trovavo un wifi mi trovavo in tutti gli alberghi perché ti serve un po' di banda per uploadare il video quindi avevano quelle ADSL che sai la disperazione nera sì disperazione poi uno a un certo punto scrive vabbè vediamo però è anche quella roba lì che è una roba settimanale però quando sai dire faccio la videoanalisi tutto bello poi quando a Ferragoso sei al mare e addirittura alle 11 o alla mattina alle 8 alle 11 se sono in giro faccio domani sì ma ti devi alzare alle 8 poi perché la gente l'aspettano non è facile vi assicuro vi assicuro che la volta che hai la febbre io veni di sera sono tornata a casa con la febbre ho febbricitante ho dovuto mettere la sveglia alle 7 di sabato per far sta cazzo però mi fa piacere che la guardiate di tanti e quindi so di avere un dovere al di là dello sponsor che vabbè quello è proprio perché mi da quell'eurino che dico vabbè dai mi alzo perché ho quella gestione patrimoniale che dice vabbè da qui piglio un euro e ci compro il caffè hai capito sempre tutto il money management deve essere della tua vita non i tre tic di stock loss ecco dicevo vorrei mi piacerebbe tanto che voi ah stamattina non l'ho messo neanche ero stanco perfetto va bene comunque mi piacerebbe tanto che voi iniziaste a all'inizio guardate la video analisi e poi dite ah sì allora il tema è questo ve lo scrivete bene lo cercate sull'attivo stasettimana era sull'euro store massimo e minimo sopra trenerialzista sotto ribassista adesso vi dico perché e sull'america era correzione abc massimo e minimo quello è il tema finché lì dentro succede niente fine anche lì spesso sono stato criticato che dice ah ma tu dici se esci di là se esci di là ho capito a volte è stato mesi in correzione abc ed è lì che ti tira scemo il mercato però se è fermo nulla si può dire su quello che accade adesso vediamo cos'è la correzione abc cioè non è che faccio il mago il mercato è fermo io ti do la tematica è se esce di qua è così se esce di lì è così aspettiamo a volte ha fatto aspettare tanto il vantaggio qual è? che man mano che aspetti la gente di una psicologia si proprio deteriora viene fatta a pezzi perché in una correzione abc cosa c'è dentro? quello che va long che dice che tanto sale e quello che va short che dice che tanto scende più dura la correzione abc più si accumulano quelli che mettono lì quindi quando esce perché la movimento è sempre molto ampio? perché hai una parte che aveva ragione e gli altri che avevano torto quelli che avevano torto escono e devono e accelerano con il loro stop la direzione io non ho le certezze di cui aspetti anche esce e poi vediamo cosa fare tra parentesi anche a livello di time frame il metodo bisogna essere molto capitalizzati però tu lo puoi applicare sul grafico settimanale il grafico settimanale ti fa la tematica che è quella della video analisi quindi di base tu adesso per capirci sull'euro stocks esce da sopra long però lo stop me lo devi mettere sotto il minimo è una bella sberra perché più ampio è il time frame più devi essere capitalizzato perché gli stop sono ampi non è che non lavoro sul settimanale sono figo faccio lo scalper sono un poveraccio ho poco margine di rischio però magari uno con un cfd anche voi la settimanale lavori così venerdì prossimo ha rotto il massimo lunedì entro senza guardare il prezzo pum compro stop loss sotto il minimo è ampio però su 10 euro rompe il minimo stessa cosa vendo stop loss sopra è una berla da 200-300 punti se lo fai con un future ti fai a pezzi ovvero deve essere tanto ricco ma è così che si fa trading non è che quello che fa lo scalper tutto il giorno è un figlio uno che non ha soldi di fatto senza offesa cioè di nuovo ma non è il mito Warren Buffett quello si fa trading si si compra la coca cola la disney dice secondo me queste aziende valgono mi compro la disney la disney fattura 55 billion miliardi di dollari all'anno è capitalizzato fa trading così allora quello lì gli direbbe no tu non fai trading online no non sono trading bisogna star lì tutto il giorno a sfinirsi gli occhi mi capite no? però una cosa che dico soprattutto a chi inizia invece inizia sui time frame piccoli inizia su quello grande con un piccolissimo CFD stupido stupido in settimana vai a lavorare sabato a mercati chiusi guardi riguardi la tematica aggiorni lo stop se c'è da aggiornare e il sabato dopo riguardi ma ti dà una disciplina sensazionale adesso non so 300 tic iniziano ad essere tanti forse anche su sono 300 euro con tanta roba scusa 30 tic no 300 iniziano ad essere tanti soldi però è un esempio lo puoi anche simulare se fai una simulazione senza barare dico sempre se bari con te stesso lascia perdere tu dici ok sabato ha rotto il massimo scrivi entro lunedì all'apertura stop loss qui lunedì guardi dove è aperto ti guardi il grafico dici vabbè qua sarei riuscito a eseguire no? fai una cosa un po' realistica comprato a top stop lì e sabato dopo a giorni questa è una cosa che potete fare e vi aiuta molto nel tema del mercato la volta che bari con te stesso torna a lavorare tanto se bari qua perché anche il discorso trading reale trading simulato io dico sempre la simulazione è sempre te la fai bene è come quella reale perché è una sfida con te stesso è chiaro dopo un po' devi andare con il reale il CFD ma quando raggiungi gli stop massimi giornalieri settimanali mensili non è che vai al mare una settimana ti metti a risimulare finché non puoi di nuovo fare trading se tu hai raggiunto la massima perioda settimanale tua è mercoledì giovedì e venerdì fai simulato lunedì ricominci con il reale perché non ti perdi la metodologia e l'apprendimento mi capite? quindi all'inizio simulate iniziate con il reale e poi inizierete a fare un po' da fisarmonica avanti e indietro reale simulato e se lo fate in modo scrupoloso vi garantisco che a volte non vi ricordate più neanche se è reale o simulato cioè ci mettete del vostro quando quei ragazzi simulavamo cioè glielo chiedevo ma siete rimasti male che abbiamo preso questo stop stupido in modo bieco e in effetti sì cioè rimani male come se e non c'entra i 10 euro i 100 euro è proprio una questione tua non di orgoglio eh ma gli dirò sbagliato cercate di farlo in questo modo allora vediamo i trend Draghi sta parlando mi sembra che vabbè vediamo che cosa succede c'è poco movimento non se stop è lì lo lasciamo lì allora il trend teoria di DAO adesso dovrei scrivere ma non ho la forza immaginate prego scusami tu si interrompetemi pure no ma il valore della posizione qual è? è il controvalore cioè 30.000 euro eh sì esatto per quello che li devi avere cioè a livello teorico ottima domanda tu devi ragionare sempre no allora è chiaramente un evento molto là da venire molto remoto però psicologicamente tu devi dire io in questo momento mi sto giocando è un estremo esempio 30.000 euro per quello dico allora ripeto un euro stocks vale 3.000 euro il margine per l'euro stocks è 1.500-2.000 euro tu non stai investendo 2.000 vi è chiaro non è il concetto ma 30.000 loro ti prestano gli altri tra l'altro è uno dei vantaggi del tema il mio posto dove sulla parola ti prestano 27.000 euro quindi questo è uno dei vantaggi no? perché il margine è questo tant'è che la discrepanza tra il future e il sottostante è proprio dovuta all'interesse che di fatto paghi su questo prestito della differenza ma tu devi ragionare come se stessi investendo e quindi potenzialmente evento remoto potessi perdere 30.000 euro per quello devo dico sempre io comunque ce li ho cioè mi capitasse non vado in mezzo alla strada gli ridò farò molta fatica per un po' ma non sono rovinato se tu mi vai a leva 200 400 e sti cazzi allora è un evento remoto però sono successi dei casi dove la perdita è sicuramente molto più ampia del margine io mi ricordo una volta il Bund eravamo a Parigi a fare la fiera nel 2008 c'era stato proprio tipo flash crash cioè una discesa fortissima uno aveva messo lo zero in più e aveva fatto boom boom e lì tu il Bund erano 800 euro di margine una serie dentro avevi perso 3-4 mila euro poi il controvalore del Bund è 100 mila euro quindi lì scoppia il mondo e abbiamo altri problemi ma comunque ripeto tu devi raggiungere io qui e noi adesso abbiamo detto 30 mila euro di controvalore allora se hai un carattere per cui lo gestisci così bene se sai di che tremi abbassa perché non te lo puoi permettere o psicologicamente o finanziariamente ma se tu hai 30 mila euro sul piatto e parli così tranquillo discorri va tutto bene tu dici ah ma lo fai perché loro no abbiamo lo stop in macchina lo faccio per quello questo stop non è sui server di diretta è all'Eurex è là allora può succedere venga saltato certo eh sì perché allora sull'Eurex c'è una regola per cui lo stop deve essere sempre solo al meglio per legge per legge loro del mercato quindi comunque lo esegue il problema è che se ricapita una roba simile poi controlli li hanno messi se quello lì voleva vendere 10 mila mi capita ha messo lo zero in più e l'ha venduto i 100 mila proprio nella mascherina così quindi ha fatto proprio boom boom e lì lo stop sì te l'ha eseguito ma non a 30-40 quant'è così te lo esegue 3-4 mila euro sotto io sul conto non ce li ho ti chiamano devi rimettere subito quello ti dico ragione in termini di esposizione e quel controvalore da qualche parte devi avercelo allora se è il 10% del tuo patrimonio mi capite il discorso di stamattina dice vabbè ho 3 milioni mi do 30 mila no 3 milioni adesso non va bene non sto facendo il percentuale comunque mi capite 300 mila scusa e è bom se c'ho 300 mila euro vabbè ne ho persi 30 mila campo ancora se tu hai solo 30 mila sei bello che rovinato e poi mi scrivono lo piangono ho perso tutto ti avevo detto sei capace mi dice ma non ti conosce no io lo dico a tutti dire fuori adesso sta con le opzioni è la stessa cosa vendi compri adesso non voglio entrarci però lì c'è un discorso margine contro valore posizione scoperta e lì è anche molto pericoloso perché se le vendi lì la perdita è potenzialmente limitata no non mi chiedere io non so niente e tra l'altro impara anche da sta roba non puoi fare il tuttologo mille mercati mille trova la tua cifra il forest quello che è rimani lì io mi trovo bene qua se rimango qua dici perché non fai le azioni il forest perché non croce a parte che non mi piace poi mi va bene sta roba non le opzioni però le avevo studiate allora perché comunque devi sapere tutto anche per sapere che non ti piace no? che non è per te quindi sull'opzione c'è un unico discorso per la posizione di lungo però è molto complesso da montare che è quello invece di mettere lo stop in macchina siccome è molto ampio e con l'opzione invece tu ti copri o con una put o con una call cioè da lì in poi con l'opzione però devi avere un controvalore uguale c'è il problema dello spread è molto complesso allora lì invece di mettere lo stop loss sulla posizione di lungo settimanale ho 30.000 euro di qua col euro stocks mi piglio un'opzione che ha la pari funzionamento quindi da 30.000 in realtà devi guardare il prezzo quindi non sei mai coperto al 100% quindi da non so quanto 3.000 dice 3.000 qui avrei lo stop in macchina invece c'ho l'opzione quindi perdo di qua guadagno di là si controbilanciano e il margine che ti chiedono scende perché se siete con un broker che compensa i margini delle opzioni dei future è un discorso però molto complesso lo accenno e basta perché potrebbe aver senso per la posizione di lungo perché a quel punto non hai neanche lo stop in macchina il discorso che ti facevo prima che ti salta lo stop o lo esegui molto più in basso perché tu da quel punto in poi guadagni con l'opzione si o call se vai sciogli si però non è facile come dicono perché liquidità scadenza perché il future ti scade a marzo quell'altra è mensile cioè state attenti no anche sull'Eurex sono molto liquide quelle dell'Eurex però ripeto quello potrebbe aver senso perché non è uno stop che è nel computer dell'Eurex in macchina e che magari ti salta perché quello sbaglia ma è una robina che da lì in poi guadagni con l'opzione e perdi col future quindi riesce a rimanere coperto ripeto la userei eventualmente ma molto con le pinze e rimettiamo fuori il nostro bel disclaimer perché veramente stiamo parlando solo di esempi teorici però è una cosa che studierei se proprio mi appassionassi all'opzione si beh lì sono proprio dei gruppi no ma lì guarda ci sono delle strategie e viene molto segmentata la cosa di fatto quindi tu ognuno è come una fabbrica ognuno fa un pezzettino tu non vedi la macchina monti lo specchietto quell'altro mette la ruota non ti devi immaginare andiamo long bra quello che accadeva prima infatti sta vero per l'inzio nel forest ci sono anche parecchi video anzi uno l'ho messo è interessante e ve lo consiglio che è quello dell'ITF anche se non vi interessa di forex però lui ci mette sempre molto del suo e ha delle guarda è sul canale di diretta allora come le è esatto è carino lui ti proprio come era una volta quello è un bel sul canale diretta sim questo qua tra l'altro lo gestisco io quindi ho fatto anche delle playlist andate qua in playlist c'è quella dell'ITF eccola qui vi consiglio di guardare scuola di forest che sarebbe ben iniziale perché è veramente e poi quello di paolo che lavorava con me al fondo edge io l'ho conosciuto lì poi lui l'ho portato qua e adesso ha iniziato a collaborare con diretta però paolo è quello a livello istituzionale da cui io ho visto come si faceva no 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 c'è solo quello infatti poi gliel'ho mandato molto quindi i primi due guardateli senza altro il terzo è sui trading system se vi interessa sicuramente vale sono anche belli lunghi un'oretta abbondante ripeto andate su youtube mettete diretta sim il canale sulle playlist ho fatto io la playlist di t forum i primi due guardateli perché uno ti spiega come erano gli istituzionali diciamo ancora non dico alle grida ma insomma al telefono e il secondo invece Paolo ha lavorato inizialmente coi primi fondi quando c'erano sei proprio la prima ondata di fondi negli anni 80-90 vabbè voi non vi ricordate però ci fu in Italia ve lo ricordate che diventarono non legali insomma avevano introdotti i fondi comuni di investimento e lì loro fecero tanto perché era proprio tutti se li compravano un mercato a rialzo eccetera eccetera quindi ha avuto una grossa esperienza con i fondi di intesa banca quindi una grossa esperienza poi negli anni 2000 è costruito in un edge ma pre-crisi di quelli che proprio funzionavano molto bene poi hanno aperto nel 2007 quest'altro edge piccolo derivazione dell'altro e mi avevano conosciuto a un mio corso sul market profile quello che feci a Milano al Marriott quello storico veramente pre-crisi perché era del 2008 vennero 250 persone una roba oggi impensabile perché comunque la crisi ha ridotto molto anche il pubblico e vennero anche loro e mi proposero di collaborare in modo molto semplice cioè hanno integrato la mia metodologia nel loro fondo dando un pezzettino però la cosa bella è stata proprio che ho visto come funzionava ho visto che l'analisi tecnica non sapevano cos'era ma tanto ho fatto due anni lì che sono stati per me ora oltre ad aver conosciuto Paolo che è una persona di una validità e professionalità estrema quindi sì guardatelo e sappiate che io ho imparato tanto da lui forse lo dovrei scrivere nei commenti perché magari da anzi poi l'ho posto anche grazie perché sì no ecco una cosa che voi dovete fare al di là di tutto quello che abbiamo detto oggi è proprio cercare di passare dall'altra parte della varicata fino adesso siete stati proprio disperati ma sì perché è così ma perché ragioni con un contratto arriva lì non sai cosa sta succedendo allora piano piano maturiamo consapevolezza consapevolezza vuol dire ragionare come l'istituzionale non devo lamentarmi sul forum e dire cattivi loro fanno i soldi proviamo a vedere come fanno se riesco anch'io il piccolo forte del fatto che negli anni 2008-2007 piena crisi hanno perso tanto quindi si sono dimostrati umani molto meno invincibili di quello che sembravano essere poi si sono ripigliati però tra l'altro per chi sa l'inglese dico ai ragazzi giovani assolutamente da leggere questo flashboy l'ho consigliato anche su perché non so se è uscito in italiano di Michael Lewis allora questo libro parla in modo molto semplice molto divulgativo quindi io puoi leggere quasi romanzato come funziona il trading algoritmico che a noi non interessa di per sé ma devi sapere se tu leggi questo capisci perché noi vediamo le robe uno o due secondi dopo allora di nuovo io non so voi se sapevate sta cosa fino a stamattina ma e non è colpa del tuo fornitore dati ripeto non arriva il segnale da Chicago cioè tu qua c'hai l'SMP ma avete presente deve fare tutto l'oceano arriva a Londra da Londra deve venire qua anzi va prima a Milano perché serve sono a Milano e poi a Torino quindi a me mi arriva un po' prima che a te che abiti non so dove lui è di Ancona ti arriva dopo perché è un segnale non so se allora adesso parliamo di millisecondi ma comunque tu il tuo tempo reale è per forza un film già visto infatti lì spiega molto bene questa cosa di mettere i server vicini all'exchange si è creato proprio un business di mettere tutti i server vicini perché più sei vicino e più vedi le robe prima e il famoso algorithmic trading non è altro che sono vicino e ho già visto dove va compro e vendo a quelli che non lo sanno se io vedo che sale fa un uptick tu non lo sai ancora perché sei a Milano buonanotte io lo so già allora se sale che cosa faccio devo comprare e vendere compro e te lo vendo a te che arrivi che non lo sai ancora è quello allora voglio dire già sapere che te vedi le robe uno o due secondi dopo ripeto non è quando ho letto questo libro ho detto vabbè meno male che col metodo non abbiamo bisogno di stare così sul pezzo però infatti hanno avuto molti problemi da quando è nato il trading algoritmico ma proprio per questo motivo e lo spiega molto bene quindi se sapete l'inglese vi prego di leggerlo subito e se non lo sapete vedete se c'è la traduzione di Michael Lewis e se vuoi proprio vi appassionaste c'è l'altro libro che è molto tecnico invece Dark Pulse che spiega ancora meglio e ancora più a fondo allora questo magari non lo capire di Scott Patterson se fossi giovane li leggerai tutti e due dentro domenica ecco ma perché sono proprio appassionanti capisci un sacco di cose e dici cazzo adesso hai ragione Stefano e che dice antipatico e non dobbiamo uscire a cena ma perché è chiaro che io cosa dovrei fare prendere tutto il mondo e dire allora tu perdi perché e spiega tutto perché vedi le robe dopo però la gente non ha pazienza di starti ascoltà tre ore il messaggio qual è? tanto non ce la fai per questi motivi poi se hai voglia leggi queste robe e li leggi e dici cazzo come facevo io poi quelli lì sono dei filmini basati sul filmino che è in ritardo hai capito? e te sei ancora più in ritardo poi usi l'indicatore buonanotte cioè vedi proprio le cose dopo allora possiamo andare a lavorare da McDonald's 5 euro l'ora e 8 te le dà sicuro scusa tu le 3 e 25 sì l'apertura adesso la seguiamo ma siamo ancora dentro sì anzi ho i soldi va al trader online e tu puoi prima ero lì è quello che quando fate ste robe ragazzi vi supplico chiudi tutto metti lo stop loss se forse no esci dalla posizione cioè quando ti monitorizzati io dico sempre il cardiofrequenzimetro perché sopra un certo livello adesso poi hanno fatto la cosa che ti legge le pulsazioni anche con la telecamerina non so se lo sapete appoggi il dito grazie però adesso c'è anche bluetooth quindi cioè tu lo vesti tutto il giorno e controlli i tuoi battiti no? quando ti arrabbi guidi dormi guardi la tele mangi hai un'idea dei tuoi battiti quindi ti scoprirà ognuno di voi la sua soglia lo tieni proprio due o tre giorni fisso poi adesso ripeto non è più come i miei tempi con l'iPhone poi ti metti l'allarme questo aiuta molto la regressione cognitiva perché quando vai in regressione cognitiva è chiaro che la pulsazione ti aumenta solo che tu sei in regressione cognitiva non ti rendi conto e lì almeno ti metti l'allarme suona e dici ah cazzo è vero sono in regressione cognitiva fidate io mi ricordo ma con robe di terrore proprio quando imparavo dopo un po' tu non senti più neanche l'allarme non so se comprendete e ti togli io mi ricordo una volta proprio quando stavo in parola mi ero tolto il coso per non sentirlo quindi provate veramente a fare una cosa simile perché è davvero molto importante poi dopo un po' impari a monitorare all'inizio ti serve l'allarme che suona poi dopo un po' impari e ti sai controllare da solo no? però al di là del Andrea dice i 3 tick del viva panno tenuto vediamo sempre molto sintetico Andrea quindi adesso poi inizialmente gli dirò cerchiamo sempre di aggiornare le tematiche una cosa che facciamo è mettere una linea verticale sulle 3 e mezza perché i future americani vanno avanti tutto il giorno no? metti la linea 15 e 30 0 0 0 0 almeno vedi come aprisse il mercato che in effetti il mercato sottostante apre perché è un'altra cosa vabbè adesso non ve la so fare seguiamo solo la posizione ecco dicevo a livello di libri se non l'avete ancora fatto fatelo quindi alternate letture noiose a letture piacevoli un altro libro che assolutamente dovete leggere c'è gratuito ovunque quello di Jesse Livermore che è Remines del Sovestock Operator non ho idea se sia mai stato tradotto credo di no però chi non sapesse l'inglese mi viene in mente ad esempio quello su Market Profile Mind Over Markets non c'è in italiano ma c'è in francese quindi se qualcuno di voi sa il francese non l'inglese controlli che magari in francese c'è questo qui ad esempio è un libro che dovete leggere per forza questo qui era uno che veramente uno dei più grandi trader letto e rilecchio questo l'avevo letto dieci volte veramente e mi ricordo me lo tenevo nel 2005 però il Nokia i primi con l'OMTS me lo tenevo lì me lo portavo dietro me lo leggevo sempre perché non capivo un cazzo all'inizio non per l'inglese però non capivi cosa faceva no lui poi col tempo ecco cos'era quella roba lì che faceva e molto la cosa del tape reading eccetera ed è una lettura assolutamente gradevole vedi qua c'è proprio il pdf te lo tiri giù e lo leggi non so se c'è in italiano però vediamo se c'è in francese in french e comunque questo qua che era uno grande alla fine si è sparato finì anche lì ma perché perché per una serie di problematiche questo è il mio parere di nuovo lui cosa faceva vabbè nato poverissimo vivi in babam quindi guadagnava tantissimo si comprava al mondo ville yacht poi perdeva ogni volta riusciva a rifarsi a ripagare tutti i debiti senza dichiarare banca rotta sai che negli Stati Uniti vuole dichiarare banca rotta personalmente e non paghi più i debiti invece lui è sempre riuscito ha fatto una due tre volte e la testa ha sparato perché era anziano aveva la mia età e non ce la faceva più a ripartire tutto da zero questo perché perché aveva la sua grande debolezza non era la roba del trader ma che ogni volta si comprava tutto il mondo è chiaro che se te ogni volta Porsche cosa eh anche lì purtroppo ci vuole tanta disciplina perché quando guadagni poi purtroppo paradossalmente c'è anche quel problema lì è chiaro che se te si incontri il billone che chissà che cosa spese folli la servitù proprio sta dietro al baraccone incide sul trading perché tu incide purtroppo oltretutto di far pure una vita non drammatica però un pochino più ascettica di quello che perché sennò ti abiti al benestare dico sempre a volte quello che faccio qui a Torino io molto spesso grazie a Dio molto gentilmente mi pagano freccia rossa io prendo regionale stamattina l'ho preso per motivi di tempo ma perché perché torno un po' coi piedini per terra metti due ore vedi la gente non per snobismo ma con grande rispetto che va a lavorare non è che lo prende come me come il turista ma dici ah ok perché qua perdi anche un po' sai mille euro due mila perdi un po' il senso del denaro allora vedere le persone che per i mille o due mila euro si fanno tutte le mattine questa roba cioè questo è molto importante e poi ti tiene molto coi piedi per terra purtroppo c'è un problema che non è il vostro di oggi anche nel momento in cui guadagni anche lì però c'è un metodo semplicissimo che è quello di spendere sempre anche incazzate c'è la regola della macchina ad esempio che dovrebbe avere un valore in teoria cosa che io non ho seguito ma che è un decimo del tuo reddito anno il valore della macchina che tu in teoria ti potresti comprare 10 valori di Giovanni 50 valori 30 mila euro benissimo 3 mila euro è la macchina per te vai a cercartela dici ah cazzo l'ho comprata da 10 mila allora due soluzioni o la vendi subito incassi la perdita e esci da quel trade drammatico che hai fatto oppure la tieni è un altro metodo finché il suo valore arriva a 3 mila magari in 10 anni perché la porti che te la puoi permettere dici vai ho mai fatto la cagata se la vendo oggi mi dann 3 lire me la tengo finché vale 3 mila euro cioè un decimo del mio reddito non patrimonio allora se lui avesse usato questo metodo per quello dice il money management vedi che coinvolge tutta la vita per quello dico scuola di trading è di vita purtroppo non finisci mai è una roba guadagni vuoi la macchina 30 mila benissimo ce le hai ogni anno 300 mila netti no e allora un decimo del reddito anno questa è un'ottima reddita l'ho già comprata tienila finché non vale un decimo che è un buon rimedio perché se una macchina 30 mila ora che ne vale 3 mila quanto passano? 15 anni? eh? 10 mili accumuli per dire oppure dice boh vendo subito e mi ricompro il macchinino adesso non lo farei perché non te la compra nessuno qui sta scendendo di nuovo e vedete rispetto all'apertura allora vedi che la riga verticale ti dà idea cosa succede dell'apertura in poi come fosse un'altra giornata lo è perché hanno aperto i mercati sottosanti quindi abbiamo una prima spinta verso il basso che ha riportato l'SMP sotto era appena rientrato il minimo di ieri c'è una divergenza perché il Nasdaq è ancora sopra giusto? allora crema del mercato e vedere chi ha ragione il Nasdaq è rimasto dentro i minimi di venerdì o l'SMP che è sotto non faccio niente fin a parte che siamo in posizione però in teoria aspetto che si risolva la divergenza e anche loro vediamo cosa ha detto l'SMP gioca con i minimi vediamo se si riallinea con gli altri indici non è corretto quello che scrive Andrea che doveva dire S&P sotto magari adesso lo dice forse è appena sceso non lo so Nasdaq sopra i minimi di venerdì c'è una divergenza USA aspettiamo che si risolva questa è la tematica da seguire in Europa ulteriore divergenza abbiamo tutto sopra i minimi di venerdì quindi in teoria dice Andrea ha ragione è solo l'SMP che è sotto quindi vediamo se l'SMP traina tutti sotto o se gli altri lo riportano su ok? di solito però sulla apertura americana non diamo mai giudizi prima delle 4 e mezza scusate quindi 15 e 45 15 e 50 aspetti un 15 20 minuti e vedi un pochino cosa è successo non dare giudizi vuol dire che se non sei in posizione eviti di prendere mi sembra che Draghi si è parlato alle 3 e mezza alle 3 non ha avuto un primo altro impatto quindi adesso guardiamo un pochino come si risolve questa divergenza vedete no? prima spinta basso adesso è partito uno spinto verso l'alto il Viva sta tenendo quindi è vero che è sotto però il Viva tiene per un altro è crescente quindi vabbè siamo long non è diventato il Q quest'altro stessa cosa Viva è crescente sopra i minimi di E chiaramente se anche l'SP fosse sopra sarei più contento per la mia posizione però capite che aggiorno sempre la tematica vedi che è un continuo macinato e segui il tema del mercato non stai a guardare la barra verde-rosso in Europa questo è ancora sopra quello pure il Viva è arrivato addirittura a 51 stranissimo quindi è aumentato di 1 direi che si ha quasi preso lo stop invece è salito di 1 meglio di niente non stiamo diventando ricchi però per ora la posizione è ancora coerente e magari adesso ci prende lo stop però capite il discorso dello stop ampio aumenta le probabilità a tuo favore non sto dicendo di usare stop ampio ma se ve lo potete permettere sì tant'è che prima avete visto ho detto entriamo col secondo risk management no non possiamo andiamo fuori con i cosi benissimo rimaniamo con uno tu quando fai trading da solo cazzo queste robe da solo e c'hai la regressione cognitiva e poi devi fare che sai che insomma complicato no non lo perché lo dico magari create un gruppo e da lì viene fuori qualcosa un gruppo di lavoro io ve lo creo poi lo portate avanti voi quando avete dei dubbi me lo chiedete però potrebbe essere una cosa interessante no perché ripeto da solo fai su quante robe devi pensare perché comunque la logica è quella del fondo cioè di essere un'azienda quindi come in un'azienda hai tanti ruoli se gravo a farli tutti da solo bene la vedo bella dura prego questi qua sono NTIC sì l'Eurostops prevalentemente l'Eurostops sì esatto e poi eventualmente l'SMP infatti una cosa che dicevo ai ragazzi di fare eventualmente era che ieri sera quando io ho scritto non mi ricordo a che ora l'ho letto la notizia c'era stata quella forte discesa del l'Eurostops japanisienne e infatti i futures poi hanno aperto a picco e sono andati giù ecco probabilmente infatti glielo ho scritto stamattina sarebbe stato corretto dire bom vendiamone uno adesso loro stanno cercando gli advanced decline no adesso ve li cerco io intanto vi faccio vedere cosa sono questi sarebbero i cosiddetti market internals cioè sono sostanzialmente gli advanced decline eccoli qua ti dicono in buona sostanza no però questa è la linea degli advanced decline aspetta non mi ricordo allora praticamente ti dicono quante azioni il mercato usa stanno aumentando e stanno diminuendo si chiamano gli advanced cioè su quello americano comunque se cercate su google gli advanced vi salta fuori e anzi ve lo faccio vedere addirittura così gli advanced vi viene fuori qua e se è il numero di titoli che aumenta e quelli che diminuisce nel mercato americano nice new york stock exchange amex che vabbè conta poco e il nasdaq però anche qui dato il ritardo in 15-20 minuti ma ti dà un'idea sull'andamento del mercato cioè se tu hai con un mercato rialzista più azioni che aumentano quelle che scendono te lo conferma a volte il mercato sale e quelle che aumentano sono di meno di quelle che scendono quindi ok questi sono adesso li guardiamo dai 15-45 15-20 minuti dopo l'apertura ecco comunque inizia a pestare in giù è un po' l'S&P è a VWAP vediamo se tiene è già il secondo test il VWAP vi ricordate uno l'ha fatto prima quando stava prendendo lo stop adesso è già il secondo pronto va bene intanto che aspettiamo allora la cosa del trend perché sennò poi mi dimentico allora tu hai scusate non disegno perché non ce la faccio fisicamente il trend crescente no? massimi mini crescenti più o meno ok per avere l'inversione di trend tu devi avere teoria di Dow 1900 nella sequenza dei massimi mini crescenti prima un massimo inferiore cioè non riesci a superare il massimo precedente poi ti fa un minimo inferiore al precedente sono i due allarmi e poi quando ti penetra il minimo hai l'inversione ci mette tanto tempo ed è un po' quello che dicevo sul grafico daily accadere su il mercato europeo perché il mercato europeo è ancora il trend ribassista guardate allora qui proveniva da un trend al rialzo qua dietro grafico anzi vi faccio vedere il grafico storico così è più chiaro scusate i grafici storici sono quelli del continuo eccolo qua chiarissimo allora qua c'era il trend rialzista quindi una sequenza di massimi e minimi crescenti giusto? ok che cos'è successo? qui ha fatto qui un massimo inferiore al precedente primo allarme non è invertito il trend ha fatto un primo allarme di inversione poi ha fatto un minimo inferiore al precedente secondo allarme e poi ha penetrato quel minimo qui così si è invertito il trend al ribasso dell'euro stocks quindi massimo inferiore al precedente minimo inferiore al precedente alla penetrazione del minimo ok prosegue il trend al ribasso qui quindi il trend è ancora al ribasso perché dico ancora al ribasso formalmente? perché guarda ha fatto sta sparata qui ha fatto un piccolo massimo ma non era superiore al precedente il minimo si volendo poi ho detto quello famoso intorno ai 3003 che diceva una videoanalisi se avete presente questo si è un massimo superiore al precedente primo allarme tre mesi che sale cioè tre mesi no però da agosto formalmente il trend è ancora al ribasso secondo allarme stavolta si bello marcato sicuramente un minimo superiore al precedente vedi era il tema dicevo vediamo adesso se andate a riguare la videoanalisi mi bucca questo arrivato lì non l'ha bucato cosa ho detto sabato i livelli rimangono quelli o no questo l'ha fatto ieri no? stamattina mi ricordo comunque uno venerdì scusate due se supera qui il trend è invertito ufficialmente al rialzo perché ci sono stati due allarme ha penetrato massimo superiore se penetra questo si ristabilisce il trend al ribasso ma per avere un pieno ristabilimento il trend ribassista poi deve penetrare questo minimo è ovvio correzione a bc perché? perché a quel punto dici bon aspettiamo sta facendo un casino perché questa è nel trend ribassista una correzione ha tentato di invertire se non ce la fa dici va bene correzione a bc uno due finché esce di lì non dico niente quelli sono i limiti della correzione a bc molto ampia però finché lì dentro hai un trend ribassista in correzione a bc cos'è? una correzione incasinata cioè non quella della teoria che sale fa la cosina riparte è una correzione molto complessa guardiamola sul mercato americano correzione a bc vedi? questa che dico che è dura da qua perché qui siamo in trend rialzista quindi vale il famoso six out grafici a tempo su un trend è finito entro sei barre deve ripartire allora adesso lo stanno manovrando loro qui ne ha fatto altro che sei non è ripartito manco per niente poi è sceso no salito no la correzione a bc è quello in un trend dice va giù no va su no dopo un po' dice è in correzione a bc cioè la la inquadri finché rimane lì dentro sei in trend rialzista è dal 2009 che sono in trend rialzista non è che si gira così eh e lo vedete se buca ai massimi ristabilisce in pieno subito il trend rialzista della correzione a bc se pene tra i minimi hai bisogno di tutta la pippa della teoria di dao minimo a e poi inverte cioè quando dico non è che se buca la bc a ribasso inverte subito ma deve fare tutta la menata e ci vuole tanto tempo lo vedete con l'euro stocks adesso vabbè Andrea lo sta un po' poverino allora avanza e climb ovviamente negativi vediamo un pochino qua non ci sono ancora li ha presi magari da un altro sito e comunque avete capito questa cosa del trend voi potete farla anche in intraday cioè ad esempio oggi l'Italia no oggi no perché è in laterale però vedi che qua era ieri venerdì aveva un trend ribastissimo il trend di intraday è quello solo di quel giorno lì quindi tipo oggi sul DAX se guardo solo oggi questa roba qua giusto? è assolutamente rialzista quel ragionamento lo puoi fare anche qua adesso vedi che ha fatto piccolo piccolo massimo inferiore se non vedi bene abbassi il numero di ticolo aumenti 100 200 400 in modo da aver chiaro il trend di intraday quindi ha fatto un massimo inferiore magari sta invertendo il trend di intraday ma cosa mi serve? un minimo inferiore poi risalirà se buca il minimo inferiore ha invertito il trend di intraday a ribasso se invece rimane lì che traccheggia dici trend di intraday rialzista ma in correzione ABC la correzione ABC non è altra una correzione un pochino più lunga prego mi sta anche andando via la voce devo vedere prego prego se si chiedeva a dire qualcosa di più a proposto del piano di lavoro la macchina ah no pensavo il template qua il cosa deve prevedere il piano no il piano di lavoro deve prevedere allora il piano di tre esatto allora te lo faccio vedere subito ne prendiamo uno nostro eccolo qua allora prima cosa noi ragioniamo sempre sulle probabilità questo era non so di che giorno Wednesday mercoledì scorso allora oggi le probabilità questo l'ha scritto lui poi io glielo correggo glielo sistemano comunque per capire cosa ci va dentro allora noi non facciamo previsioni il mercato o sale o scende o va di lato poi mi insultano mi dice non fai eh ho capito è così però il trader assegna le probabilità stamattina con la notizia degli USD era probabilità momentum down più alta perché stanotte l'USD japanesiano è sceso e i future americani sono scesi tu devi assegnare le probabilità ai tre diversi scenari ma li devi fare sempre tutti e tre quindi hai tre possibilità no? o è swing o è momentum up o momentum down quindi la prima cosa dare a mercati chiusi la probabilità dei tre scenari secondo te quel giorno quant'è lui dice oggi la probabilità sono swing intende dire maggiormente swing poi momentum down lui lo vedeva più probabile e poi momentum up anche se è remoto come stamattina non avresti mai detto che saliva e poi è salito magari però tu non fai previsioni quindi dai solo le probabilità ai diversi scenari e li tracci tutti e tre nel corso della giornata non fai altro che rimodulare se necessario le probabilità oggi ad esempio la probabilità del momentum down si è ridotta ed è un pochino aumentata quella del momentum up adesso è un po' lì che gioca vediamo che cazzo succede quella swing è andata perché da quando diventa momentum però stamattina dovevano dirmi ragazzi probabilità swing zero secondo noi o comunque bassissima poi si sa mai cosa succede però con la roba del Giappone secondo noi la probabilità swing è la più bassa ma di tanto poi viene il momentum down perché hanno aperto a ribasso e poi il momentum up cosa fai se è swing allora lui scrive il massimo è allora per quanto riguarda il momentum up i livelli a considerare come cambio ambiente massimo il giorno prima vai a vedere se c'è un massimo sono i massimi di venerdì a 32.47 io questo non posso pubblicarlo perché è una cosa operativa c'è tutto il problema di sclemere le cose anzi rimettiamo fuori di sclemere anche se questo è di mercoledì e quindi sono le sono meramente esempi teoric però io lo pubblicherei perché non ho grossi problemi adesso c'era il discorso che con la app di Traderlink che esce adesso cloud cioè c'è già in realtà se andate sull'app store e la stanno facendo anche per android c'è proprio l'app di Traderlink cloud che si fasa col visual trader cloud allora anche lì pubblicheremo gratuitamente la stessa cosa che mettiamo su facebook per quelli che in realtà l'app è gratuita e poi a pagamento è una cosa che fa Traderlink io non voglio prendere soldi ma gli ho detto fai tu nel senso che se tu ti sobbarchi tutta la menata a livello disclaimer roba eccetera lo vuoi pubblicare farlo e probabilmente partirà anche che loro pubblicano anche il piano però lo mettono a pagamento però vabbè insomma al di là di non penso che lo prenda nessuno perché è meglio farselo da soli però probabilmente io gli avevo detto ma magari quello delle 7 lo fai a pagamento chi lo vuole le 7 e poi a mezzogiorno lo lascio per tutti tanto è scaduto questa può essere un'idea quindi infatti sull'idea di lasciarlo a mezzogiorno dice no perché poi chi l'ha pagato si offende giustamente anche se poi non vale più cioè alle 8 e 5 non vale più infatti la roba che frustra è questa te ti devi alzare alle 6 fai tutta sta pippa alle 8 e 5 già non lo butti via certi giorni è così uno o due giorni all'inizio tutti bravi e qui non c'è mare non c'è montagna cioè se è stata abbiamo fatto tutti le vacanze grazie a te adesso c'è il 4G tutti i giorni poi dopo andavo al mare facevo alle 6 io mi svegliavo facevo questa roba con loro è comodo questa cosa 10 anni fa non potevi farla quindi siamo anche fortunati 10 anni fa non potevi pensare di avere internet da nessuna parte però quindi la costanza siamo fortunati perché anche la tecnologia ci aiuta a essere costanti diciamo che se uno doveva farlo stando a casa tutti i giorni si sparava poverino però questa costanza è sfidenta da sicuro comunque dice dov'è che diventa momentum up i massimi di venerdì in caso di rottura vi sono altri livelli quelli di conferma gli altri livelli sono quelli dove o vai con la full position o aumenti dice ho 10 contratti ne prendo 2 qua 2 qua 2 qua 2 qua finché arriva la full oppure sono quelli dove muovi il trailing stop il trailing stop nel position di momentum è sempre il VWAC però se è superato un massimo notevole come nell'euro stocks quello lì in zona 3.013 dici boh lo stop lo metto qua sotto perché questo lo devi già sapere così se sei long va sopra i 3.013 ah cacchio è quel massimo lì che quando non erano in televisione cognitiva avevo detto che se lo supera stringo lo stop e quindi ci sono altri livelli da valutare che sono i massimi del sempre ben presente la vera positività l'avremo solo sopra i 3.269 qua era ancora la scadenza giugno perché poi c'è stato un roll over e poi a 3.291 conferma di operatività momentum con esempio con l'indice DAX da supporto da prendere in considerazione il superamento dei massimi di lunedì non trado il DAX ma dice guarda che per essere veramente momentum voglio anche il DAX sopra questo livello qua lo stop loss a rientro del range di ieri salvo utilizzo dell'initial balance perché a volte vi è capitato mai che la mattina fa supera il massimo torna giù magari alle 8 3-4 volte ecco lì l'initial balance è utile perché il range della prima ora le prime due ore tu lo metti proprio a cavallo dei massimi e ti fa da filtro quindi non è più cambio ambiente sul massimo minimo ma è l'initial balance questo capita molto spesso quando la mattina alle 8 non so fa un po' biringo bilango e dici che cazzo allora lì filtri aspetti l'initial balance lo metti lì e hai la certezza del momentum poi per il momentum down il cambio ambiente lo avremo alla rottura dei minimi del 4 vedi che c'è proprio tu lui dà prima le probabilità e poi dice tutte le mattine sta roba primo target eventuale il gap sottostante non vuol dire che non usiamo il trading stop perché però è il primo target come dire lì magari raddoppiamo stringo il in caso di ambiente swing potremmo non avere gap da chiudere questo perché lo dice perché dal piano io questo non lo pubblico però nel quadro macro noi guardiamo sempre è molto semplice dove sono i future usa prima delle 8 più o meno vedi dove aprirà probabilmente l'Europa come stamattina i future usa erano molto sotto la close di venerdì e si prevedeva un'apertura negativa dice ma non fai le previsioni no non è una previsione del mago è per avere un feedback dal mercato cioè mi aspetto che siccome gli usa sono stati nella notte ovvero durante l'asia negativi questo abbia un impatto sui future europei che quando aprono saranno negativi se il future europeo ti apre positivo o comunque non così tanto negativo hai subito un feedback dal mercato che ti dice c'è un disallineamento tra il comportamento normale teorico che poi non c'è mai sul mercato e quello reale mi capite quindi la previsione d'apertura non è una previsione del mago comportamento normale stanotte i future usa sono scesi dovrebbe aprire giù l'euro stocks e il tax se ti apre su c'è subito una divergenza allora ti fermi sospettiamo che si risolva se invece l'apertura è in linea con la previsione ripeto non del mago la proiezione sarebbe meglio dire vabbè lui dice però potremo non avere gap perché probabilmente i future americani erano molto schiatti se fosse come ipotizzato avremo apertura in zona massimi di eri ci troveremo già in zona massimi per eventuale vendita short e stop loss sopra anche ora massimi di eri o initial balance cioè quando ti fa biringo birango con i massimi che dopo un po' te li cancella avete presente usi l'initial balance che è prima il range a un'ora poi il range a due ore 8-10 perché l'euro ex apre alle 8 e lo metti come filtro non metti lo stop sopra il massimo di eri se ha fatto avanti e indietro 40 volte metti l'initial balance che vedi che lo segniamo sempre in blu noi no? queste linee poi le potrete vedere sui vtcloud pari pari quando esce a ottobre perché le shareiamo e sono gratuite quindi chi vuole va a vedere noi teniamo rosso verde massimi e minimi di eri tratteggiato nero i gap aperti che deve chiudere blu l'initial balance e poi in viola i massimi e minimi della notte asiatica cioè quelli da mezzanotte alle 8 di mattina che poi aggiorniamo alle 2 e diventano i massimi e minimi da mezzanotte alle 3 alle 3.30 sarebbero della sessione globex quella notturna del future comunque vabbè lo spiegherò quando lo faremo quindi qui la posizione sta degradando tanto lo capite perché scende andiamo a vedere l'initial balance scusatemi l'advanced decline qua non me lo dà ah no però no è perché il K aspetta lo so io K.finance punto perché lì è cambiato eccolo qua allora sono molto negativi tu sul NISA hai 2200 azioni che scendono e 500 che salgono e sul Nasdaq 1800 che scende e 500 che salga diciamo che noi siamo long ma era meglio stare al contrario siete d'accordo? quindi magari adesso ci prende lo stop si si c'è ancora noi siamo ah non c'è più allora ce l'ha preso probabilmente o l'aveva spostato a VWAP siamo in posizione ah no ma perché Andrea davanti al computer l'ha tolto si 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 lo esegue a mano no questo non fatelo voi no no per la carità voi fatelo stop automatico però vabbè noi diciamo e questo era un po' il problema che ti dicevo se andiamo a mangiare pausa la sera stop automatico se andiamo avanti al computer lo esegue a mano cioè arriva a 30-44 pam ah ottima osservazione non fatelo voi stop automatico ah voi non dovete provare a fare tre poi quando inizierete stop automatici perché il fatto di eseguirlo a mano insomma devi essere molto disciplinato essendo tu in regressione cognitiva non sei in grado perché poi dice aspettiamo aspettiamo è così no che succede ma lo so perché l'ho vissuto infatti la dice in usa potremmo essere in fase di inversione di trend sull'NTIC anche se negatività ben presente l'Europa continua a tenere rispetto alla divergenza usa allora quando accade così poi magari adesso prende lo stop l'Europa tiene cosa succede che se gli usa per caso si reggirano a fare la botta in su allora quando l'usa scendeva l'Europa stava ferma adesso e parlo l'ultima mezz'ora è chiaro che se adesso gli usa gli danno un po' di ire in su l'Europa ci fa una botta in alto che quindi è positiva certo era meglio se salivano noi siamo long però l'Europa tiene di nuovo non stiamo facendo i maghi qua che preghiamo che siamo in ginocchio tutti sugli atti ma oggettivamente lui nota che su una discesa usa l'Europa tiene che cosa vuol dire tema del mercato che se per caso l'usa ci dà un po' di ire adesso qua magari mi vanno sopra a Dua mi fanno un favore perché sono sotto però l'Europa a quel punto più che reagisce perché comunque sta sovraperformando e qui non ci sono regole fisse oggi è così ieri sottoperformava lo scopri giorno per giorno ok la tematica il piano hai capito com'è più o meno allora tutte le probabilità sale scende sta fermo vabbè però sale scende sta fermo sta fermo vuol dire swing non direzionale momentum up momentum down la mattina devi dire qual è più probabile meno probabile meno probabile ok e per ordine fai le tre possibilità quando è che per me è vero momentum se supera è 32 ma la conferma ce l'ho sul massimo il giorno prima che era lì vicino invece il momentum down se supera poi se mi inizia a far biringo birango uso l'initial balance così filtro il massimo il giorno prima swing se rimane dentro e papà fitto no? probabilità di avere un gap siccome l'america è scesa tanto allora penso che ci sarà un gap però stamattina avrei scritto il gap non sarà tradabile perché apriremo dato che la riscita è stata molto forte in ok sta scendendo tanto quando scende il nasdaq è quello che ha sempre trainato i rialzi quindi l'europa tiene sì sì tanto però gli advance decline sono pessime sì ma l'america ha subito tanto questa cosa del l'USD japanisienne a parte che c'è una correlazione anche con l'SMP cioè se li tracciate insieme spesso sono molto vicini non tutti i giorni ma allora perché sta scendendo tanto l'america ragioniamo poi non serve scusate stai incanando via adesso muoio allora il motivo è la notizia della notte dell'USD japanisienne noi la sappiamo da ieri sera ma l'americano medio adesso sono le nove si è svegliato adesso quindi è chiaro che vende cioè qui sta ancora scontando tanto quella notizia di ieri sera sul mercato cash il grande pubblico ah cazzo cos'è successo brand vendiamo se continua a pensare ingiusti riafferma la negatività però magari noi sappiamo seguendo quello a 24 ore che in realtà un pochino ha recuperato magari adesso spurgata la negatività del grande pubblico perché immagina il trailer online americano disperato oddio brand vendiamo e va tutto cioè c'è un po' da scontare questo discorso è sveglio da mezz'ora ieri sera è uscito mi capite no? non è che è stato lì a guardare cosa succedeva in Asia madonna non sto sudando ragazzi dite che non vi voglio bene oggi è stato no come lo riconoscete ma vado a letto vado a letto in albergo Matteo stasera non è fatto domattina mai si soppitichiamo per il panino no vado a letto adesso mi alzo vabbè comunque ce l'ho fatta sono molto contento no spero ecco al di là delle pentole vendite se è vero non è vero il forum le puttanate andate via con qualcosa spero che o aver capito che non c'è modo oppure una strada lunga ma percorribile e lo sforzo mio c'è stato lo vedete anche fisico no? quindi spero che lo riconosciate poi dico sempre chiedetevi perché quando c'è il coso parlano tutti io non parlo mai sulle video live cosa avete notato tu guardi il cartellone del grande evento a me non caga nessuno ma va benissimo perché io gli dico vai giro me ne filmo 3000 mi ricordo che all'ITF l'ultimo vai per i via cazzo dovevo girare quelli lì quegli altri ho fatto mille cose e sono molto più contento tanto se parli invece e e quindi niente non per indorarmi ma spero riconosciate lo sforzo che c'è stato ed è tanto però ho riconosciuto molto anche lo sforzo da parte vostra è questo che mi interessa perché comunque lui è venuto da là l'altro di lì c'è comunque un impegno anche la roba di Torino è nata per caso loro mi prestavano la sala eccetera però come vi dicevo è un po' di dire vabbè fatti tre metri in più un po' spostatina ma in realtà è comodissima perché adesso non è più così irraggiungibile come una volta però diciamo è molto parte del metodo ecco non so come dire poi chi vorrà col tempo ma secondo me dicembre è presto minimo giugno meglio settembre l'anno prossimo si fa il suo bel corso ma con calma magari una giornata mezza giornata quello che è la cosa a cui vi faccio accedere è che chi ha già fatto il corso paga il 50 questo ve lo garantisco a tutti quindi voi a vita sulla tariffa del corso avete il 50% e comunque il corso l'avete fatto solo voi anzi dopo scriviamo i nomi e questa cosa non è la pentola che vi vendo perché se mi dite voglio venire a dicembre quindi lo sta a casa anzi ti dico mandami un piano domattina alle 7 se c'è un errore non vieni perché devi essere pronto cioè per assorbire questi concetti il corso oggi sono stanco è molto più intenso Matteo e la prima volta cosa capisci fai fatica poi vabbè lo registriamo allora rimane la registrazione te l'ascolti la registrazione di oggi a voi ve la do e quindi vi rimane tanta cosa facciamo un gruppo se volete secondo me io simulerei l'integrazione noi come programmino usiamo telegram invece di whatsapp perché ha un grossissimo vantaggio a parte che non è di facebook ma soprattutto è cross platform cioè tu inizi la conversazione sul cellulare se ne hai due la prosegui sull'altro poi arrivi al computer prosegui qua è uguale a whatsapp però telegram si chiama questo qua è gratuito e noi ci troviamo è amata che è velocissimo puoi spedire i file limitati quindi puoi mandare anche 2 giga di roba sai la fotina di whatsapp qui mandi i file limitati è più sicuro e e poi cross platform cioè io stamattina ero in treno sul telefono parlavamo arrivo al computer apri il computer e qua se hai due telefoni prosegui dal telefono dove sei quindi ve lo consiglio anche nella vita reale secondo me comunque se volete poi tra di voi potete fare chi ha voglia no? vi fate il vostro gruppettino qua chi ha voglia e vi confrontate perché su facebook dopo un po' è un casino sai che c'è la domanda poi tutti i commenti si capisce più niente quindi il gruppo io lo creo su facebook però più che un gruppo di lavoro lì vorrei che fosse un gruppo di incontro di dire boh io ci sono facciamo non ho voglia non ho tempo guarda che io la mattina lavoro chi vuole far così dice ah io sono da Renzano ah io di Genova allora ci troviamo ad esempio Andrea è di Genova cioè per dire magari nascono cose di questo tipo e sono sicuramente utili però poi vi fate voi il vostro gruppettino qua è presente come la chat di whatsapp è uguale solo che è cross platform e è carina perché invece di parlare delle cazzate scrive ste robe e uno va a vedere qui non è mi raccomando non cadete nell'unione fa la forza dell'ho perso anch'io anche io che bello no non è bello niente è l'unione nel senso che sei un'aziendina tu fai quello l'altro fa quello the coffee si impiano tiri le righe sul visual trader questo qua che cos'è è un computer fisso con una linea decente in usa potremmo essere in fase c'è nt vabbè ora vediamo che cazzo succede vedi che gli usano un po' rigettato sono tornati sopra al vivo qui il trader online cosa fa? è vero che fai così no? sei un coglione non tu mi senso non fate così se tu ti ritrovi che sale dentro e prima di dire così ecco lì smetti subito altri due mesi a studiare punisci tu proprio perché non devi trovare emozioni qua dentro se provi emozioni non va bene devi essere freddo hai visto da quanto tempo è dalle undici che siamo dentro trader online arriva alle quattro sfinito fate che non è dentro non ci credo che riesci a tenere tutti questi swing non ci credo neanche molto uno normale perché ti fa pezzi alle due ti fa brame poi tu cioè o hai le idee molto chiare se no ogni due minuti o eh scomate fa un tic fai così non lavorate così tornate a lavorare ma veramente e completamente mi spiego quindi monitorate molto voi stessi se quando vedi la barrettina ma che bella la barra verde no non è così non è un gioco se oggi guadagni facendo così quei soldi li riperdi tutti perché c'hai troppa emotività se tu dopo che guadagni sei contento dopo che perdi mi spiace lascia perdere deve essere proprio neutro ho perso ok ho guadagnato ok tutto uguale perché non ti interessa il singolo trade ma mi interessa fra dieci anni di essere ancora vivo finanziariamente cioè di non essermi fumato tutto e b di aver imparato voi in questi dieci anni vi state comprando tempo per vederne tante e imparare ok adesso aspettiamo qua il tema del mercato che l'S&P rientri giusto no? ok allora iniziamo a quagliare tanto siamo in posizione salutiamo le persone da casa arrivederci grazie grazie davvero per averci seguito spero che abbiate compreso quello che c'era da capire su facebook e su compagnia ci sentiamo presto devo solo andare a bloccare il live che è qua posizione chiara parlo anche alle persone a casa video manager live e non c'ho live come faccio? live si vede ancora però ma perché mi dice enable live streaming? ah ma perché mi decido scusate ok live now live control room questo qua ok arrivederci grazie 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 grazie